Grazie, grazie. E qui è facilissimo, perché questo è il bagno e lì sotto la noce è passato per la cucina. E quindi lì è una linea. E quindi lì è passato per la cucina. E quindi la luce per accendere, la luce deve essere possibile. Sì, un all'interno e ora la parete. Dove si accendono? Si accendono di buono. Questo interduttore? Sì. Ok, ok. Questa è un'altra invenzione buona. C'è tutta la vita, tutta la cassa. Sono utile, sì, perché qui sono solo libri. C'è un materiale? Sì. Ah, che? Anche la cassa. Sono costruito da me, eh? Pure con la forza. Io la posso disturbare, si può fare così per me. Ah, quello sarebbe la mia gioia. Questo per esempio lo costruite io. Tutto io queste idee, ma di cui va in angiografia. Dove le mettevo? Per il salvo a spazio. Allora è fatti io, eh? No, ma la cosa del rettore viene rilecita. E rimane fuori praticamente un filtro di mano. E dovremmo utilizzare bene lo spazio. Vedeti così. Adesso questa è la mia figlia. Vedeti così. Un divano più piccolino. Beh, sì, questo quando alla fine diventa divano. Questo è il perfetto suo lotto. È tutto concentrato, ma è tutta la misura giusta. È una misura giusta, è perfetta, è un loft perfetto, è un loft perfetto, è un loft del genere, proiettato in qualche altro posto, pagherebbero con soccorso. Ah, sì, è tipo New York. Sì, sì, sì. Un loft del genere, sì, sì. I Stati Uniti adorano moltissimo gli appassamenti. Ma se questo stesse al centro di roba e uno lo vorrebbe smettere a rendita, questo sarebbe un immobile da 5-6 mila euro al mese. Sì, 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 non sto scherzando. Signore, poi la cosa a cui ho ottenuto sempre come prima cosa dei cambiamenti, ho pensato sempre a lui, all'angolo studio. Io sto ricordando che c'è tutto, praticamente c'è tutto, qui c'è praticamente tutto. Il mio mestiere, il mio lavoro, l'ha condizionato, 3 mila libri, computer, conferenze, sono sempre. Cioè, è stato ogni anno... Grazie. 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 Scusate, c'è un nego nella sala, quindi dobbiamo risolvere questo problema. Grazie. 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 È già in diretta su Facebook. Potrei evitare di far ritornare l'audio della diretta. Grazie. Grazie perché si sente un bombo della diretta. Grazie. Prova. Mi sentite? Grazie. Non so se Korni puoi provare, could you try to see? What I should do, excuse me. What I should do, excuse me. No, just a test for the audio. Okay, I hear me in the double. No, today, for me it's okay, I hear only myself. Thank you. mi sono collegato alla riunione infatti però io non sono qui come ospite prova prova uno due tre si sente un aula donnie please talk for a while should i speak something is okay no i can continue it's a wonderful day today without sun just for a moment let's try again okay good morning everybody i'm very happy to see you i'm very happy to see you buongiorno roberto ciao senti io posso parlarti un attimo siamo in diretta e stiamo registrando no ti volevo annunciare un lungo articolo popolo russo Putin e la democrazia per per trasforma italia così festeggiamo e la democrazia per trasforma italia così festeggiamo mi fa il verso no è l'eco dell'audio che abbiamo qualche problema è l'audio che abbiamo qualche problema no è l'audio che ho mai no è l'audio che ho mai la mia quello usiamo solo il mio prova sì sì io parlo qui qui c'è un microfono prova no sì io parlo qui però no prova no se io parlo qui non ho parlo sì no non ho parlo chi sa Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. financial market system and we speak about different phases and the first phase was the crisis in 2008 2009, the second in 2011 and 21 and we can say more or less connected with the Ukraine war but not only that we are in the new phases and that means the consolidation of the new project and with the deep conflict line between fossil and post fossil conflict that means we have different power relations and power struggles in this conflict system that means the consolidation of the new white the market liberal consolidation that means the continuation of the austerity policy and on the other hand we see also the new kind of dealing, the green deal a social liberal conflict the solidarity left and we can translate it in the kind of new quality of wars and struggles we see the new quality of conflict between fossil and post fossil energy and industry production the question of austerity policy but also the question concerning authoritarian democracy and new forms of neo-fascism and we see also the conflict line between the progressive libertarian versus conservative authoritarian values also within the left what is the starting point for the election in 2024 the European elections will take place in the time of war climate change social polarization upheavals with the new forms and new view to the digitalization we see on one hand the danger of authoritarian capitalism in the sense of the Putin regime but also as a coming back of Trump maybe and on the other hand also the neoliberal tendency and new forms of authoritarian neoliberalism if you are thinking concerning Macron and the protest against the pension law in the shadow of the Ukraine war we see the militarization of the European Union and the conflict between the ruling class is is it necessary to do this in alliance with the NATO or is the independent power as the stronger as stronger oriented to the European Union and connected with this question is the question of the EU autonomy and what we see is the reconstitution and the thinking about the reconstitution of the European Union as a global player and that is connected with the question of the deeper integrated political and economical actor as the European Union or in confrontation to this orientation the EU more or less as a single market with the transfer back to the competences to the member state from the white wing point we see Europe as a kind of sovereign fatherlands we see some tendency concerning the green deal more or less against this green deal to phasing out the next generation program and of course is it connected with the restrictive and militarized EU migration policy and we see the militarization of the EU only in the interest if it is only in the interest of the national countries so what is going on on the political field what I can see you as a first one is what is going with the left the left is a little bit weaker but the main problem is that if you see behind the number the founding parties of the European left party of the European left the Greeks the Germans the Italians the French the Spains mostly of them are split and that has not only the consequences for the national level that has also new consequences on the European level we see continuation of the split also on the European level is going on and when we see to the Greens the Greens dominated by the German Greens that means also of course they are supported the militarization of the European Union and that will also have consequences on one hand concerning the militarization of the EU but on the other hand what does it mean to continue the policy concerning Green Deal and we see the Conservatives also dominated by the Germans we see the Euroskeptical fraction and that is dominated by Fratelli d'Italia what does it mean I think you know this better than me and we see the identity and democracy fraction the far white fraction dominated by Le Pen on France and the second strongest party is the AfD from Germany that means the far white is going on and I will show it you with this picture if you see the tendency on the left-hand side it's a little bit goes down a very decreasing is the Greens that is connected with the German Greens but more important as this is the developing on the right-hand side that means the Euroskeptical parties and not so far from them the far white really increasing and that is really a problem the dynamic in this moment is the dynamic on the left on the right-hand side and that is a danger if you see this picture the blue color means conservatives the dark blue color means without that is Russia it's not so important for my speech today but the blue dark means this parties in this country is the far white parties that dominated the ruling parties in the polls that means leading in the polls from the far white is in Belgium in France Italy in Netherlands in Austria in Hungary and Poland and we see the government the far white government in Italy in Finland it is supported in Sweden and it was good that was not able to build a minority government but also we have strong parties in Germany in Bulgaria in Portugal last elections 18% of the in Spain that means the dynamic is on the far white what does it mean for the power relations on the European level what you can see here is only the great coalition includes the liberals the other both big parties are not able to build alone a coalition but that is not new that was more or less also the case in 2019 news is or news that this great coalition with the Greens has no longer over 50% and you see on the on upstairs that is a far white coalition is the center far white coalition only member in the in the fraction of the three fractions that means the conservative the euroskeptica and the ID and democracy but if you put to this top to this pillar also the independents and other parties you came over 50% and that means everything is going on in the direction of green policy include green deal include social green deal whatever you want it has no longer the majority but it will be a majority has a strangening of nationalist tendency and against the libertarian values in Europe I'm going from the political field to the social field what you see is the optimismo scala that I I'm using only for some sentence from my side if you see the deep crisis of the optimism it was in 2008 2009 then you see the next one it was in 2091 until 2001 2001 that means the period of the pandemic and then you see the next one it was war in the Ukraine and the high cost of living and so on that means what you can see is the feeling more and more not only the individual crisis it's a feeling of uncertainty between the people the feeling nothing is safe nothing is sure also that means a feeling of uncertainty what what are people thinking about what is most important in 2002 and 2003 what you see is in 2002 and that was from 2020 to 2002 on the highest level came the social question that means the high cost of living and the feeling and the fear against poverty and social exclusion you see between the end of 2003 and 2004 then you see the shift to the migration issues and the war in the Ukraine that means in the beginning of the year of 23 and that is also the case in 24 you see at the first step is the migration question and the war in Ukraine that means also that is a consequence of the white populist discourses in the European Union but the people see and that is the relationship between what the people thinking has the European Union to do and on the right hand side what do you think is most important in your own country and concerning this both you see the differences for Europe and the first stage is the migration and Ukraine war the climate and the high cost of living is coming later and also the climate change but if you see what the people thinking in your own country the high cost of living is on the top and that means on the national level the cost of living the social question is on the top and we can use it since 2019 we see some changes concerning the view of the European Union that is not maybe so strong for you in Italy because you are always more pro-European as other countries and that is connected in the last time of course with the question of peace and security but not only it is also connected with the question of cooperation between the member state with a kind of economic growth with freedom of movement of course for people especially in the peripheries of the European Union and as important to be more important member of the world so and interesting is that new view for the European Union as to interpret the European Union the young generation for the young generation is it very clear we have as a starting point in our own life the European Union as it is and my feeling is that a lot of especially the young generation is not so critical against the European Union more than 80% support the defense policy the trade fair policy and also the foreign policy they don't are so skeptical or so critical against the European Union but one thing is really important one third one third of the one quarter of the young generation independent of the political orientation are against Frontex and that is the highest level of reservation against Frontex that means this topic Frontex and also the migration policy is very important for the people one thing is very problematic is the supporting of the foreign policy is also connected with supporting of the Ukraine measures and that means the humanitarian measures support over 90% but also over 60% to sending weapons and financialization of weapons that is this speech I give it you with my presentation after my presentation this speech but Meloni is speaking in this moment is not only the speech of Meloni you can see more or less the same sentence in from represents of my own party the link also that is stupid that I see what the people what the far white is speaking today I saw in the past as the positions of the left no heavy weapons to the Ukraine we as the left saying the same and that is one of the challenge what we have what is a good point the majority supporting in the European Union majorities of the people the taxes for big transnational technology data companies more or less 90% supports the minimum wage in every country more than 80% and that is also important for trade fair trade with social and ecological minimum standards could you go a little bit slowly okay and we see excuse we see what is for the people in Europe very important and that is the international situation and you see also and that is formally important the question of the climate change because as you see the left wing voters that is the red button what you can see this button is for the left voters more important as the voters as a whole that means the climate question will be also next to the peace question and next to the migration question and the social question of course because the social question is always the head the herd of the left the climate question will be one of the most important questions also for the left let me go to my last point because that is the most difficult point we have a lot of possibilities to the intervention in such situation in which we are staying but we see the big fragmentation between the left in our families in the party families in Europe and also in our countries and I give you the picture of Luis Ramiro he is a Spanish researcher and he gave us this picture from 2002 what does it mean the white wing is the social social democrats family that means it's not so has not so big exceptions as the other one it's very compact you see the green ones the green ones are the greens in Europe and the greens that means that the greens has a little bit more libertarian exceptions but oh excuse me but not so much and then you see the black one and the black one with the largest difference and this beat all solitarian and libertarian value in this in this presentation this is the challenge for the left because concerning the social question we are really united you see us as the most left wings position concerning the social question that is not our problem but the culture question and the differences between authoritarian and libertarian values that and the culture also connected with the political culture that is the biggest problem of the left in Europe and what we have to do is we have to looking for in which way is it possible to develop a culture of solidarity between ourselves the question of integrating the different positions and possibilities and if I see what we can do for example in the European left also in transform the possibility of bridge building in our own countries connected with the bridge building on the European field and of course in the global solidarity with the left everywhere that is the but in Europe of course concerning the European elections we have to concentrate what we can do directly for the people for their daily life and how we can connect it on the national and also on the European level that is a big challenge in what we are staying in many things excuse me for my fast words for my fast speaking yeah excuse me grazie Connie grazie anche Eva che ci ha reso possibile la traduzione simultanea e stiamo cercando di metterci in collegamento con Fausto per il primo intervento magari intanto se posso chiedere a Piero di intervenire come sì grazie grazie buongiorno a tutti e a tutti grazie a Roberto Morea e a tutti voi di Transformo per questo invito io voglio portare una testimonianza voglio riferire qui di una iniziativa che abbiamo messo in piedi nel novembre del 2022 insieme a Roberto Morea che è la scuola interdisciplinare e cosmopolita online e una serie di lezioni che si svolgono diciamo con una certa sistematicità e che nascono da una esigenza prima la relatrice che mi ha preceduto parlava per l'appunto della cultura politica della sinistra come un elemento centrale nella formazione di una nuova elite di sinistra ecco la scuola nasce da una consapevolezza vale a dire dalla percezione dalla dalla certezza che si muovono due tendenze contrapposte nel nel mondo della e convergenti due tendenze che tendono a schiacciare la cultura contemporanea a privarla di uno privarla di uno sguardo critico e globale da una parte assistiamo ad una specializzazione sempre più spinta gli studiosi sanno sempre di più su sempre meno nelle università il fenomeno è ormai visibilissimo da tanti anni gli studiosi sono chiusi nel loro specialismo e non hanno perdono progressivamente la visione della complessità globale dei problemi al tempo stesso questa è la seconda tendenza che converge con quella già descritta è che queste specializzazioni sono finalizzate a un unico scopo che è lo scopo del pensiero unico vale a dire produrre sempre di più per consumare sempre di più consumare sempre di più per produrre sempre di più è la ruota del criceto che gira inutilmente tuttavia come noi sappiamo il capitalismo è ricco di contraddizioni non non tutto fila fila liscio e quindi questo modo di produzione è costretto a creare sempre nuovi saperi sempre nuove nuovi punti di vista e quindi appuntare sulla creatività ricordiamo ricordiamo le riflessioni di Marx sul general intellect e quindi diciamo nella società si esprimono tante visioni e anche critiche per cui è molto importante metterle metterle insieme ricomporle per avere uno sguardo globale come è globale il dominio sotto cui viviamo la scuola poi vuole essere cosmopolita nella consapevolezza che la storia la storia del mondo non l'abbiamo fatta solo noi europei l'hanno fatta anche altri popoli noi certamente abbiamo prodotto sapere arte bellezza emancipazione ma anche violenza e massacri l'Europa è stato un grandissimo agente di colonizzazione del mondo e questo appare sempre più evidente sempre più chiaro come appare evidente in maniera drammatica che il suprematismo bianco appare come una delle ragioni antropologiche storiche culturali che porta la responsabilità dell'ennesimo genocidio dell'età contemporanea quello che si sta realizzando a Gaza e quindi a Gaza ricordo che è in atto come dire l'evento estremo di un lungo processo di colonizzazione da parte di Israele colonizzazione religiosa profetica quindi la più intransigente la più feroce perché noi sappiamo che cosa che cosa accade alle religioni quando diventano dogmatiche e quando diventano fanatismo cioè finiscono nella violenza e nel sangue nella nella cancellazione del diverso allora illi illi la la visione eurocentrica ed euro occidentale della storia e dei fenomeni del nostro tempo si combatte esplorando le altre culture gli altri saperi gli altri linguaggi le altre religioni le altre visioni del mondo perché da questa conoscenza nasce può nascere una nuova comprensione reciproca una nuova fraternità noi siamo rimasti a lungo incapsulati in una visione unilaterale della storia centrata sul nostro dominio falsata dalla visione di questo di questo dominio quindi dobbiamo metterci in connessione con le altre culture comprenderle e da qui fondare una nuova fraternità per darvi un'idea della scuola e per essere breve vi ricordo alcune lezioni perché voi possiate avere un'idea ricordandomi che queste lezioni sono registrate sul sito di Transform Italia e quindi sono disponibili in maniera naturalmente agevole con un solo clic e che costituiscono oggi naturalmente ne cito solo alcune costituiscono un patrimonio diciamo una biblioteca una biblioteca importante per la formazione culturale naturalmente sono in italiano allora ho iniziato io con una lezione su un'agricoltura per il futuro della terra poi abbiamo avuto un intervento una lezione di Gianfranco Vieste sull'autonomia differenziata di Laura Marchetti su ecologia popolare eco marxismo eco femminismo Piero per favore chiudi perché altrimenti non abbiamo più spazio per gli altri va bene va bene comunque credo e spero di avere dato un'idea diciamo poi ci sono anche lezioni diciamo di qualche di qualche studioso straniero sui appunto sui problemi del cosiddetto e buon lavoro grazie Piero grazie anche per aver ricordato per aver ricordato la scuola che è una delle attività di maggior valore secondo me come che come Transforma Italia stiamo contribuendo a fare Transforma è dentro molte cose nel corso della giornata daremo conto di tutte le iniziative e molti compagni e compagne che partecipano alle attività di Transforma ne fanno parte e adesso do la parola a Fausto che è collegato con noi telefonicamente vai buongiorno un bellissimo intervento di finanza Transforma solidarietà e di un saluto a Ugo penso che la politica ha rincontrato un problema che è classico e che però era stato negli ultimi anni molto oscurato questo problema si chiama capitalismo a voler essere un po' più precisi possiamo parlare dell'ultimo capitalismo quello in cui siamo immersi questo capitalismo si rivela nemico non solo della classe operaia ma dell'umano e questo è in qualche misura un carato nuovo dell'animazione capitalistica e del rischio che comporta per l'intera umanità liberatosi dal suo avversario storico movimento operaio nei confronti dei quali realizza una terribile vittoria il capitalismo produce crisi nella sua fase ascendente invece che affermare la sua vittoria precipita nella crisi in una serie sistemica di crisi nella quale prendono corpo due cavalieri neri la guerra e la diseguaglianza questa emersione dei due cavalieri neri determina una linea di rottura nel mondo anche geopoldino con da una parte l'occidente capitalistico e dall'altra parte il sud del mondo ma sostanzialmente se si può dire così tutto il grande resto del mondo questa contesa che si combina con quella di classe che continua ad alimentare il mondo rischia la catastrofe e la guerra è la manifestazione più evidente di questo rischio per questo penso che proprio in maniera elementare le forze critiche del capitalismo le forze di opposizione i governi interpretano le esigenze è quella proprio di ricominciare dalla pace dalla grande contesa tra pace e guerra e ricominciare dalla pace per inanellare su quella tutti i problemi della vita quotidiana della lotta contro l'alienazione lo sfruttamento contro la crisi della democrazia che è una crisi di spogliazione di sovranità e di capacità di partecipazione dei popoli naturalmente è ben evidente la nostra inadeguatezza rispetto a questo compito storico è una inadeguatezza che è figlia anche della sconfitta del novecento e dei nostri anche dei nostri errori ma credo che oggi possiamo insieme ai limiti delle forze del cambiamento che sono rilevanti guardare con interesse e anche con speranza ai segni che possono testimoniare una possibilità di ripresa della contesa e del conflitto da parte delle forze critiche e il femminismo ci sta insegnando a guardare i fenomeni del conflitto sociale e del conflitto in generale attraverso questa intersezionalità termine un po' difficile ma che tende a mettere in luce l'esigenza di connessioni cioè di non perseguire il primato di una delle possibili contese quella sociale quella ideologico culturale quella ecologica quella di genere ma invece cercherà nelle connessioni e individuare e coltivare i segni di una ripresa di movimento la vedo la possiamo vedere nei giochi la tragedia in Palestina prima l'atto terroristico poi l'inaudita vendetta dell'Israele del governo di Israele che ha prodotto riproduce una devastazione di umanità sconvolgente vede però risvegliare tanti giovani il bisogno di un protagonismo che esce dai canoni dei mainstream dei governi occidentali e si produce su un terreno precisamente che parla della giustizia che parla della libertà dei popoli un segno interessante come è stato un segno interessante di questi tempi in cui si parla troppo di occidente dei movimenti negli Stati Uniti d'America che non è solo segnata dalla contesa elettorale tra Biden e Trump ma dai movimenti prima i Live Matter poi Meto e poi il conflitto operaio che è insolto proprio laddove la sociologia contemporanea pretendeva che non potesse più esistere cioè nelle grandi cattedrale del lavoro operaio ecco questi segni e tanti altri che ne si potrebbero raggiungere chiedono un lavoro politico chiedono un lavoro politico l'ho fatto anche con molta modestia ma guardando a quello che ti sta vicino che prova anche lui a fare delle cose in ogni paese e in tutti i paesi europei persino le elezioni europee che si presentano per le forze critiche su un terreno difficile possono essere l'occasione per rieditare il vecchio Buscar il Levante por il Ponente cioè utilizzare una campagna elettorale per poter invece che litigare anche a sinistra lavorare sulla crescita dei movimenti facendo della pace la linea guida della costruzione di una nuova ripresa del conflitto e della contesa grazie buon lavoro grazie non so se senti gli applausi ma i compagni che esprimono affetto e ringraziamento Bertinotti collabora spesso con Transform e quindi troverete anche sul sito diverse conversazioni che abbiamo avuto con lui grazie ancora Fausto buon lavoro grazie grazie adesso la parola prima volta a distanza quindi tra un collegamento dopo bevi l'acqua il primo però di una ragazza se mi consentite Anna Camposampiero da Milano grazie Roberto soprattutto per la ragazza vi ricordo che siccome abbiamo molti interventi vi chiedo di stare dentro i 5 7 minuti di intervento in modo da poter consentire a tutti di parlare dopo Anna Alfonso Gianni prego grazie grazie davvero mi chiedo scusa di non essere presente con voi mi dispiace davvero molto però domani abbiamo un evento della sinistra europea qua a Milano e mi arrivano anche gli ospiti e quindi non mi è stato possibile raggiungervi oggi la mia idea è quella di parlare appunto di pace con voi come già stato detto pur avendo negli occhi le immagini dell'attentato di ieri a Mosca che ci allontana ancora di più da una prospettiva di pace questa terza guerra mondiale a pezzi che continua e vorrei parlarvi facendo un passo indietro andando a ricordare quello che per me è stata un'esperienza che ha drasticamente modificato il mio approccio alla politica e alla vita ed è stata la manifestazione del 2003 quella che per me è stata la più grande manifestazione contro la guerra non solo in Italia ma in tutto il mondo c'erano più di 110 milioni di persone che sono scese in piazza contro quella che era la guerra all'Iraq ecco io in quell'occasione sono andata a Baghdad manifestare contro la guerra ho voluto mettere anche proprio il mio corpo a disposizione dell'idea che fosse una follia iniziare quella guerra quel viaggio come vi dicevo a me ha cambiato la vita perché ho visto un paese che ho un zoom che mi dice che sono passata all'arabo direi di no quindi scusate lo annullo ho visto un paese che era stato già massacrato da 11 anni di embargo e che oggi a distanza di 20 anni da quella guerra continua a non riprendersi a farne le spese sempre la popolazione civile allora quello che io ricordo è che noi non siamo riusciti a fermare quella follia quel grande movimento per la pace non è riuscito ed è una sconfitta che ci portiamo dietro ancora oggi ma è una sconfitta che in realtà è iniziata proprio nel 91 dalla prima guerra del Golfo dalla guerra dei Balcani da questa capacità che hanno avuto di rendere accettabile la guerra umanitaria gli ossimori i bambini o le donne che bisognava andare a salvare o le democrazie da asportare rendendo l'opinione pubblica sempre più a sue fatta sempre più complice in qualche modo che fosse volontariamente o involontariamente le guerre hanno continuato anche noi come dire ci siamo forse noi intendo mondo di sinistra un po' a sue fatte alcune con più clamore alcune come meteore che poi sono tornate passate alla cronaca e poi tornate nel silenzio generale io penso oggi al Sudan che ha 7 milioni e mezzo di sfollati di cui più la metà sono bambini penso alla Siria al popolo kurdo costantemente sotto bombardamento da parte di Erdogan penso allo Yemen per citare solo alcuni dei conflitti che rimangono lontano dai riflettori non che quelli che sono sotto i riflettori drammaticamente risveglino le coscienze di chi governa e intanto c'è una corsa al riarmo che viene strutturata sempre di più e la sicurezza diventa il termine dietro cui nascondere e diventa l'obiettivo primario da perseguire che sia la sicurezza delle nostre frontiere da difendere a tutti i costi o meglio a costo della vita delle infinite persone che scappano da quelle guerre che noi non siamo riusciti a fermare a impedire sia la sicurezza in termini bellici o di difesa insieme a questo c'è la migliore propaganda che noi possiamo vedere di guerra e non solo ed è così ben articolata che rende silente chi invoca la pace o viene ridicolizzato o che si cerca di tacitare o di accusare di essere sempre dalla parte sbagliata perché in guerra ci si schiera e o ti schieri dalla parte della pace o sei già un nemico quindi diventa già come se fosse una partita di calcio poi io non vorrei dimenticare anche quelle che in questi anni sono state le guerre economiche quelle fatte con gli accordi di libero commercio quelle che hanno distrutto le economie locali nei paesi con cui si facevano questi accordi e anche in questo caso ci sono stati dei movimenti che sono riusciti quantomeno a rallentare se non a frenare penso alla grande campagna dello Stop TTIP che è riuscita ad avere la forza di portare in piazza delle persone diciamo comuni non dei militanti sul tema di un accordo commerciale quindi hanno avuto la capacità di renderlo popolare di renderlo comprensibile allora e vado verso la conclusione oggi l'Europa si prepara davvero alla guerra e si prepara con parole senza senza nascondersi e nel momento in cui abbiamo visto anche la presentazione di Hilde c'è dovrebbe essere bisogno di più di pace intesa come giustizia sociale giustizia ambientale uscita da una crisi economica e sociale l'Europa si prepara alla guerra e la sinistra in Europa si è divisa si è divisa sulla guerra in Ucraina perché la guerra questo fa cesure questo comporta le spaccature tra i popoli e non sarà facile ricostruire un percorso unitario non solo per a volte mancanza di coraggio o peggio paura di perdere consenso ma proprio perché c'è un'incapacità io credo di vedere la follia verso cui stiamo andando il comunicato del Consiglio Europeo di pochi giorni fa se vogliamo la pace dobbiamo prepararci alla guerra è davvero una dichiarazione di guerra a noi tutte e tutti allora noi abbiamo un'enorme responsabilità e non possiamo continuare a limitarci a pensare o a ripetere che avevamo ragione negli anni 90 e nel 2000 o che abbiamo ragione ancora oggi dobbiamo mettere le nostre intelligenze le nostre energie al servizio di un movimento che rimetta la pace al centro della politica e dobbiamo rompere la narrazione mainstream essere capaci di far capire che la guerra ci riguarda in termini non solo etici ma economici e di ricadute sociali per usare termini bellici non dobbiamo arrenderci dobbiamo uscire dagli schemi a cui siamo abituati uscire dall'angolo in cui alcune volte ci siamo messi da soli anche e iniziare ad avanzare delle vere proposte e le elezioni europee sono la prima occasione per farla ma non l'unica grazie mille grazie grazie Anna ringrazio ancora tutti quanti per rimanere nei tempi abbiamo un po' di interventi che chiedono di parlare la mattina quindi io faccio avanzare le loro richieste quindi Alfonso Gianni allora intanto vi ringrazio per l'invito e per la modalità di organizzazione l'unica questione che in sette minuti non ho mai riuscito di stare ma questa volta cercherò di fare miracoli parto dall'ultima affermazione di Anna sulla centralità della questione della pace che sembra un'obietà ma a mio parere non lo è e occuperà il nostro pensiero e la nostra azione per diverso tempo quando si sviluppò la crisi economica finanziaria mondiale partita dalla questione dei dei mutui e nei suprime statunitensi io lo ragionavo vedendo due cose che poi a mio parere si sono sviluppate anche se per strade imprevedibili certamente la pandemia rientra in questa imprevedibilità tuttavia quell'avvenimento e quella di lagare quasi istantaneo del processo di crisi economica dimostrava una crisi profonda dei processi di globalizzazione innestata dai suoi stessi successi negli anni 90 ma che avrebbe disegnato un perdurare della crisi attraverso il tempo il secondo elemento che veniva già fuori in quel quadro era che si delineava con sempre maggiore chiarezza da un lato quello che è stato chiamato il declino del secolo americano e dall'altro l'emergere di una nuova potenza dal sud del mondo rappresentata dalla Cina a mio avviso cioè si delineava per queste due ragioni non semplicemente un quadro di crisi ma un quadro di transizione egemonica mondiale da ovest verso est sostanzialmente irreversibile e arrestabile solamente innestando un processo massimamente distruttivo di guerra le ragioni delle molte guerre a cui ha fatto riferimento Papa Francesco che nel corso di questo ultimo decennio quindicennio si sono sviluppate trovano a mio modesto avviso le loro ragioni di fondo all'interno di quel processo ora dentro quel processo si sta naturalmente l'Unione Europea l'Unione Europea è dentro la guerra queste elezioni europee sono dentro la costruzione di un'economia e di un apparato di guerra non posso qui insistere sugli aspetti pur importanti dell'analisi economica che sono stati sviluppati da diversi autori questi ultimi anni mi soffermo semplicemente sulla loro dimensione istituzionale di tipo sovranazionale a mio avviso sono passati troppo sotto silenzio non qui dentro ma altrove la serie di trattati di alleanza militare di durata decennale bilaterali che sono stati firmati nel corso di questi ultimi tempi diciamo diciamo così che questi trattati hanno tre aspetti probabilmente molti di più ma almeno tre sicuramente che non si escludono l'uno con l'altro ma si sommano come una sorta di prisma che di volta in volta offre una delle tre facce in maggiore evidenza la prima la più evidente ma la meno importante è che non potendo entrare l'Ucraina nella Nato causa l'articolo 10 dello stesso statuto dell'alleanza atlantica questa moltiplicazione di accordi con paesi europei ed extraeuropei ricordiamo che la Gran Bretagna lo è dal punto di vista dell'Unione Europea ma gli accordi sono stati fatti anche con il Canada sono una specie di sostituzione di questa possibilità nell'immediato dell'Ucraina di entrare nella Nato il secondo elemento ovviamente connesso a questo è che questi accordi nello stesso tempo è come se dicessero vedete molti paesi lo fanno beh a questo punto rompiamo il tabù degli articoli formali dello statuto e apriamo le porte alla Nato la terza il terzo aspetto che è legato agli esiti del 5 novembre americano è il seguente se è vero e c'è un fondo di verità che era già apparso molti anni addietro che gli americani sono molto capaci di aprire guerra in tutto il mondo ma sempre meno di poterle sostenere economicamente e politicamente se è vero che quindi ci sarà un ritiro dell'America dal quadro europeo e dalla stessa Nato sia che vinca Trump sia che vinca Biden beh noi europei dobbiamo prepararci per tempo a costituire un bastione bellico nel nostro territorio rivolto al nemico russi e questo è il terzo aspetto che maturerà con maggiore evidenza nei prossimi mesi naturalmente cerco di andare più in fretta che posso questa guerra ed è per quello che si impone il discorso di un trattato di pace i cui caratteri a me paiono evidenti e che comunque potrei riassumere nel concetto di una situazione sostanzialmente coreana cioè uno stop alla situazione delle forze in campo una possibilità per i paesi del Donbass di avere un regime di autonomia particolare una costruzione di una conferenza europea anzi mondiale sulla pace sulla falsa riga di quello che fu Helsinki nel 1975 ma non ho tempo di analizzare ciascuno di questi pezzi questa è una possibile ipotesi di punti specifici su cui un trattato di pace potrebbe organizzarsi ma la questione è che in ogni caso la vittoria è impossibile per entrambe le forze in campo e si può dire che per quanto la situazione sia oggi di stallo dal punto di vista militare naturalmente se entrassero in gioco le armi nucleari lo stallo salterebbe immediatamente ciascuna delle due forze ottiene una sconfitta politica ottiene il versante russo visto che il suo problema era quello di non essere circondato dalla Nato e invece abbiamo avuto l'ingresso dei paesi baltici dei paesi del nord dell'Europa all'interno della Nato stessa e lo vede anche lo vede anche il versante rappresentato dal mondo occidentale questa è una guerra per procura e dunque dal versante stati uniti nato che se il loro obiettivo era ed è dimostrabile anche questo studiando la politica estera degli ultimi 30-40 anni quello di rendere innocua la Russia all'interno di una dimensione regionale ottengono esattamente il risultato opposto cioè quella di spingere la Russia verso una sempre maggiore protagonismo all'interno della situazione asiatica e all'interno di quello che si chiama il sud globale non a caso i rapporti tra Unione Sovietica e tra Russia e Cina si capisce adesso il perché del mio della via gaffa tra Russia e Cina appunto sono molto migliorati rispetto alla situazione antecedente allo sviluppo bellico sia dal punto di vista economico l'economia russa non la popolazione russa ma l'economia russa non va affatto male dal punto di vista dei criteri di misurazione del mainstream economico e lo sviluppo della Cina dal punto di vista della sua influenza su omplissime zone del mondo si allarga ulteriormente quindi abbiamo tutti e due perdenti e su questo dovremo e mi avvio alla conclusione potere e dovere insistere io credo che questa questione della pace richieda però una declinazione su tutti i suoi aspetti che ama in campo quello che bevi l'acqua diceva quello che Perzenotti richiamava e cioè un problema di pensiero politico di cultura politica la quale però non può identificarsi con un passo indietro come diciamo così è in alcuni settori anche della sinistra di alternativa e cioè una chiusura in una sorta di nazionalismo rinnovato perché questa non è una prospettiva che ci fa fare passi davanti ma anzi è una prospettiva drammatica come dimostra la scissione della link che fa fare passi indietro alla sinistra grazie se ho rubato qualche minuto grazie ricordo che noi abbiamo la possibilità di avere una traduzione fino alle 12 e 30 quindi vi ringrazio Eva per aiutarci a far comprendere tutti gli interventi a Conni e e chiunque voglia seguire via zoom può selezionare l'interprete e do subito la parola a Giovanni Russo Spena per il prossimo intervento buongiorno a tutti e tutti vi ringrazio dell'invito io d'altro tanto mi sento parte piccola parte modesta di Trasforma e e credo che Trasforma appunto debba continuare anzi rafforzare diffondere il suo sistema a rete che mi sembra importantissimo a livello nazionale a livello europeo io avrei voluto essere con voi ma purtroppo come come sanno Roberto Musacchi e Roberto Morea oggi è il Nevroz cioè la giornata della purificazione del fuoco della libertà per i kurdi io ne sono il loro portavoce italiano quindi sono costretto tra l'altro e mi fa molto piacere a coordinare i lavori di una delegazione del Rojava che è qui in Italia qui a Roma con la sua capacità di spiegarci cosa sia questo questo confederalismo democratico avanzatissimo io credo anche per noi per noi europei da studiare da ricercare da prendere come esempio e quel femminismo antipatriarcale anticapitalista che appunto le donne le compagne del Rojava ogni giorno riescono in uno stato peraltro di guerra di guerra imperiale a portare avanti quindi faccio solo tre osservazioni tre in cinque minuti tre osservazioni brevi e sono d'accordo con le osservazioni che facevano anche poco fa Fausto Fausto Pertinotti e ora Alfonso Gianni siamo di fronte appunto a guerra e diseguaglianza in maniera grave siamo è un po' il fondo del barile che stiamo laschiando e ne dobbiamo essere preoccupatissimi cito soltanto a prima osservazione alcuni episodi di questi giorni il documento del Consiglio d'Europa Michel che cita il motto addirittura si vis pacem parabellum che diventa quindi quasi un imperativo categorico è il motto del colonialismo dell'impero romano Breton e Ursula von der Leyen che espressamente parlano e scrivono di economia di guerra cioè lo stravolgimento sappiamo cosa è adesso lo spiegava anche Alfonso lo stravolgimento cioè del sistema economico produttivo finanziario e che significa appunto innanzitutto e da subito come da adesso anche il ministro Crosetto ha spiegato qui da noi in Italia militarizzazione dell'industria europea noi avremo bisogno di Canadair appunto come sappiamo bene non ambientalisti contro gli incendi boschivi sono pochissimi e gli incendi crescono eppure invece avremo caccia militari supersonici e il settore bellico in primis appunto la Leonardo che va già molto bene basta leggere gli ultimi articoli tionfali anche del sole 24 ore in questi giorni avrà avrà molti molti molte risorse pubbliche sottratte quindi dallo stato sociale questo è un primo tema appunto politico sociale narrato per titoli ora in questo momento ma su cui credo noi dovremo anche i prossimi giorni i prossimi mesi rinsaldare maggiormente anche la nostra cultura del conflitto sociale specifico in questa fase come dire bellica o prebellica secondo punto appunto collegato è il rafforzamento del complesso militare industriale europeo che mi interessa anche come giurista che è soprattutto un problema democratico non ho qui abbiamo scritto altre volte detto il tempo di approfondire ma ma chi guadagna dalla guerra insomma questo è il punto banale è semplice avrà interesse ad influenzare il dibattito pubblico per avere più guerre e più lunghe guerre qual è l'obiettivo infatti di un aumento forte di spese militari rincorrere gli USA nella loro ambizione imperiale anzi ricostruire un imperialismo europeo e qui appunto qui però c'è uno scollamento nel quale noi dobbiamo inserirci certamente anche se soltanto a livello di opinione pubblica e non oggi di capacità di organizzazione ma c'è uno scollamento fra il mainstream e i popoli che vorrebbero appunto terra e pace vorrebbero appunto in qualche modo insomma partecipare in maniera democratica a una costruzione della pace e per inciso perché c'è anche un problema istituzionale parlamentare ricordo che in Italia stanno facendo a pezzi in Parlamento le destre il governo la legge 185 del 90 la legge che è voluta da Nigrizia la missione oggi da beati costruttori di pace da Pax e Cristi eccetera che molto appoggiamo che regola l'import-export degli armamenti e voglio anche ricordare altri episodi di cui ci parlano continuamente in questi giorni in cui giriamo nelle scuole occupate delle nostre città soprattutto di alcune metropoli Roma Napoli eccetera ci spiegano appunto le ragazze soprattutto le ragazze molto combattive e i giovani che occupano voglio ricordare che l'educazione al militare sta entrando profondamente nelle scuole è un fenomeno poco conosciuto ma di cui dobbiamo interessarci e anche nelle università ci sono corsi accademici gestiti dalla fondazione Med Or Leonardo intorno appunto alla concezione si visse pace ma parabellum quanto è bello quanto è bello l'esercito professionale che va in guerra terzo punto appunto la guerra è l'economia veniva detto poco fa e l'uso della banca europea degli investimenti potrebbe essere riposizionata appunto nella prospettiva del mercato unico della difesa dando priorità agli appatti congiunti come la chiamata Ursula von der Leyen come se le armi appunto fossero vaccini Paolo Gentiloni sappiamo non so se passerà ma comunque Paolo Gentiloni il commissario europeo dell'economia ha inoltre ipotizzato il ricorso agli euro bond per finanziare un piano di riarmo da 100 miliardi l'euro l'anno beh quarto punto la guerra sto finendo mi interessa molto la guerra è pedagogia di massa è come il premierato è delega assoluto al potere al capo di un popolo inerte quindi guerra e premierato camminano insieme è educazione all'ordine all'obbedienza passiva l'ordine di servizio è cancellare appunto la scuola di Don Milani la situazione è peggiorata io penso è l'ultima osservazione che faccio fra Genova 2001 e Pisa 2024 le mangalennate agli studenti per due circostanze l'impunità assoluta dettata dal presidente del consiglio e dall'attuale governo e la normalità con cui un funzionario di polizia non dimentichiamolo in divisa può dichiarare Mattarella non è il mio presidente perché non l'ho votato io ecco vedete come la tendenza alla guerra e alla repressione si collega al premierato ecco questo mi preoccupa questo mi preoccupa molto un'ultima osservazione e un'ultima frase come ha dichiarato l'ammiglio Bauer che ne sa più di noi altissima carica militare nato l'altro ieri ha dichiarato testualmente per molti decenni abbiamo avuto l'idea dell'esercito professionale che avrebbe risolto tutti i problemi di sicurezza ma dobbiamo sapere che per una difesa collettiva gli apparati militari attuali non sono più sufficienti vi è bisogno di più gente che sostenga gli eserciti di una società quindi che si metta in guerra ecco questo è il nuovo maccartismo vi ringrazio quindi di questa assemblea molto importante centrata su questi punti io credo appunto che il piano della lotta pacifista e della lotta per la costituzione una lotta per una democrazia popolare siano lotte congiunte è molto molto importante vi ringrazio grazie grazie l'applauso della sala vi ringrazio per rispettare i tempi do la parola a Linda Linda Santilli collegata da sì io mi scuso ma devo oscurare il video perché altrimenti mi salta la connessione ce l'ho troppo fragile perdonatemi devo parlare in questo modo vi ringrazio grazie Roberto grazie a due Roberti che sono seduti in presidenza vi ringrazio per questa opportunità di confronto che ci offrite in un momento in cui di confronto abbiamo davvero bisogno un momento drammatico è stato ricordato da chi mi ha preceduto ampiamente mai avremmo immaginato di vivere mi sentite scusate posso continuare sì sì scusa c'è un'interferenza di qualcuno ha lasciato il microfono aperto vi chiedo chi è collegato di fare attenzione da non soprapporvi grazie dunque dicevo noi siamo sull'orlo di un precipizio e il segno di questo momento storico è quello della distruttività cioè una pandemia alle spalle lo spettro di una guerra nucleare mondiale all'orizzonte ora sono due eventi estremi se così li vogliamo definire che vedo collegati tra loro nel senso che se leggiamo il nostro tempo da questi due angoli di visuale noi vediamo il fallimento del modello di sviluppo capitalistico cioè vediamo i mostri che è stato capace ed è capace di produrre ma vediamo anche un'altra cosa e cioè l'assenza di un modello alternativo di società l'assenza di una sinistra chiamiamola come vogliamo che sia in grado di prefigurare il nostro orizzonte cioè che sia in grado di immaginazione per dare le parole alle cose ora tutti i tentativi compiuti in questi anni e sono ormai molti anni di resistenza o di restyling della sinistra sono falliti in una coazione a ripetere che ci ha portato o almeno che non ha impedito che arrivassimo al punto in cui siamo senza più le parole che servirebbero per rappresentare la realtà e la sofferenza che le attraversa e il punto è che nel momento in cui più ci sarebbe bisogno di questo la sinistra non c'è non c'è e questo vuoto in Italia lo avvertiamo da molto tempo più che altrove e più che mai oggi in questi tempi di guerra così virulenti siamo ancora dentro le macerie di una sconfitta epocale in quel pezzo di mondo che è il nostro che noi abitiamo che è un occidente in declino perché la sua pretesa di dominio sul mondo vacilla e la risposta al suo declino sono le armi è la guerra ora di fronte a questo contesto quello che prevale è il senso di smarrimento di solitudine di paura le forze politiche organizzate non attraggono più nessuno ne sono più luoghi di elaborazione ripensamento di sé del mondo al di là della buona volontà di ciascuno non sono più luoghi di confronto chi sente il bisogno di reagire preferisce attivarsi nel mondo dell'associazionismo lo vediamo di sicuro i giovani le donne è nell'associazionismo che sono attivi e attive il mondo del pacifismo del femminismo è lì che è attivo le donne non ci sono i giovani non ci sono non è vero i giovani e le donne ci sono ma scelgono di attraversare altri luoghi le associazioni le riviste i collettivi autoorganizzati a livello territoriale per la difesa dei beni comuni dell'ambiente della democrazia come ci ricordava Giovanni prima dei diritti della pace oggi svolgono un ruolo importantissimo per tenere aperta la discussione cioè non far morire la speranza del cambiamento che poi significa necessariamente anche la speranza della ricostruzione di una sinistra che non sia appunto di restyling ma che sia in grado di immaginare questo cambiamento Trasform è una di queste realtà è una realtà importante di questo panorama ancora più perché dentro una rete europea fitta e quindi ha uno sguardo ampio assolutamente necessario io faccio parte di Disarma il coraggio della pace a parte il fatto che è un percorso comune a tante e tanti di voi oggi presenti di militanza politica ma appunto dico faccio parte di questa associazione che è nata proprio per contribuire a coltivare questa speranza di cambiamento che ci veniva ricordata anche da Fausto Bertinotti individuando noi la pace come fulcro decisivo di analisi e di iniziativa da cui partire oggi per compiere questa fatica questo lavoro politico come giustamente è stato definito che vede insieme impegnati mondo laico e mondo cattolico ho detto che vede non che che veda è l'auspicio ma che già vede come per esempio nel caso della nostra associazione impegnati insieme mondo laico e mondo cattolico la pace al centro da questo punto di vista tanti e tanti di noi hanno sentito come un dovere lo voglio dire fuori dei denti di sostenere il progetto della lista pace terra dignità mi sento libera di poterlo fare per le elezioni europee e siamo sono impegnati e impegnati in questo momento nella raccolta delle firme concludo dicendo che dovremmo fare lo sforzo e lo dico al mio amico Roberto ai Roberti a tutti coloro che sono lì perché sono certa che condividono questa cosa dovremmo fare lo sforzo di costruire occasioni maggiori occasioni e luoghi in cui tutte queste realtà diffuse scollegate tra loro possano incontrarsi incontrarsi fuori da ogni ritualità intendo cioè contaminarsi produrre pensiero iniziativa comune facciamo questo sforzo perché ne vale la pena secondo me ciò che propongo per esempio è di creare le condizioni per avere uno degli incontri periodici di questo avevamo già parlato con Roberto Morea illo tempore poi è difficile ma insomma resta nelle intenzioni ma pensare a come fare ma immaginare anche un appuntamento di più giorni in presenza non so un festival perché no diamoci questo obiettivo proviamo a costruire un appuntamento di le vecchie feste che si facevano che qualcuno ancora resiste ma costruiamola il mondo dell'associazionismo e delle riviste si incontra con un programma di riflessione proponendo anche qualche uscita pubblica qualche iniziativa importante a partire dal tema della pace costruiamola questa cosa ecco vi saluto consegnandovi questa proposta e vi ringrazio ancora di cuore grazie Linda proveremo perché anche a me come hai detto ci abbiamo pensato diverso tempo fa mi rimane una bella suggestione quella di poter realizzare un incontro con tutti quei soggetti che come noi lavorano nel campo della cerca dell'analisi e provare a avere momenti di incontro sicuramente utile oltre che necessario io ecco è suonato il cannone ha sparato il cannone di mezzogiorno su questo colpo di cannone Fabio Alberti ringrazio per l'invito al transform rinnovo l'impegno che tante volte ho dato a Roberto di dare un contributo un po' più continuativo a questa cosa ma è diventato quasi un vezzo questo ma le tante cose che succedono poi finora hanno impedito di trasformare questa proposta in cose mi scuso fin da adesso per il fatto che non mi tratterò del pomeriggio ma purtroppo essendo ormai entrato in campagna elettorale avendo accettato con un po' di tentennamenti la proposta di stare di essere in lista quando mi ha chiamato Raiero Lavalle insomma ci sono un sacco di cose da fare e io volevo siccome molte cose sono state dette con le quali come ovvio concordo volevo provare a dare un contributo partendo dall'esperienza che ho fatto recentemente a Kathmandu partecipando all'ultimo foro sociale mondiale che non è stato un foro sociale mondiale ma è stato un foro sociale asiatico perché dall'Europa non c'era praticamente nessuno e neanche dalle Americhe nel nord e nel sud e cito due cose che mi sono perse lì evidenti di come da quell'osservatorio veniamo visti noi noi europei da come viene vista l'Europa e la prima è che l'ascito coloniale la storia della colonizzazione che da noi è stata messa sotto il tappeto tanto da non far parte più neanche della nostra identità chi si ricorda che siamo sta e lì è sul tavolo è sul tavolo e rientra in tutti i ragionamenti che vengono fatti faccio un esempio quando si parla di clima prima di parlare del come dire di quali devono essere le politiche per affrontare il problema viene messa sul tavolo il debito climatico il ragionamento è voi la vostra industrializzazione il vostro modello di sviluppo ha rovinato il pianeta e noi ne subiamo le conseguenze e quindi non è una questione puramente tecnica non è soltanto una questione di transizione dal fossile al non fossile ma è un problema di giustizia globale e questo è soltanto uno degli esempi di come la questione coloniale sia sul tavolo e la questione coloniale è sul tavolo perché è parte costituente dell'identità europea è stato citato il suplematismo ebbene la 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 visione di noi stessi come di noi stessi europei come superiori è stata costruita nei decenni nei secoli attraverso il processo di colonizzazione del globo che ricordo meno di un secolo fa riguardava l'ottantacinque per cento delle terre emerse la seconda cosa che si vedeva lì da Kathmandu tra gli attivisti indiani che hanno mantenuto tra l'altro una capacità invidiabile vista dall'Europa di mobilitazione sociale e il discorso dei diritti umani non regge più per molti anni tra gli attivisti io conosco più il Medio Oriente che l'Asia ma tra gli attivisti che si battevano per la devorazione dei diritti all'interno dei propri paesi l'Europa era considerata un punto di riferimento ci si aspettava aiuto si faceva riferimento al modello sociale europeo e questo è completamente svanito l'Europa non è più credibile il discorso dei diritti umani dell'Europa non è più credibile al di fuori di noi che ce lo raccontiamo fra noi stessi e queste due cose della memoria della colonizzazione e la non credibilità del discorso dei diritti e della democrazia stessa democrazia europea viene contestata messa in dubbio ma che democrazia è quella che permette entrano in contraddizione evidente a Gaza dove a Gaza queste due cose e lì sempre visto da Kathmandu la Gaza è la prova che il colonialismo non è finito e che i diritti umani sono una sì sono un un pur parlet diciamo un pur parlet perché dico questo? intanto perché mi sembrava interessante riportare una cosa ma poi perché Ursula von der Leyen l'altro giorno il giorno prima in cui il Consiglio europeo ha deciso io penso che abbia deciso che si invieranno soldati e soldate europee a combattere in Ucraina io penso che quella decisione sia già stata presa è soltanto questione se quando dove come vanno le cose ovviamente ma che quello ma il giorno prima Ursula Ursolina ha detto bisogna preparare gli europei alla guerra cioè è in corso c'è in corso una battaglia culturale a cui siamo sottoposti da tempo l'ingresso dell'esercito nelle scuole che prepara la guerra che è ormai considerata inevitabile inevitabile per le cose che sono state dette l'ultima chiudo chiudo con questo c'è una battaglia culturale sulla visione che abbiamo dell'Europa sulla prospettiva come dire di di ordine mondiale che ci abbiamo da presentare il recupero della memoria della colonizzazione come parte della storia europea sia importante ed è il motivo per cui almeno la mia faccio uno spot brevissimo la mia organizzazione ha proposto sta proponendo in Italia di avviare una lotta collettiva per l'istituzione della giornata della memoria delle vittime del colonialismo quelle italiane sono settecentomila come sapete e altrettanto faremo in Europa adesso a Marsiglia dove proporremo di avviare una campagna europea di ricordo delle vittime del colonialismo come parte di una lotta di contenuto sculturale contro la deriva bellicista europea grazie Fabio e l'onora Lorenza e poi continuiamo con i collegamenti da fuori da fuori con Natale cucurese franco russo dopo noi abbiamo altri 20 minuti di traduzione dopodiché al mezzogiorno e mezza interrompiamo il nostro collegamento ci salutiamo con Cornelia che finora sta seguendo diligentemente tutti gli interventi e la ringrazio ancora e magari due minuti per salutarti ti volevo dare la parola prima di mezzogiorno e mezza in modo che ci ci salutiamo ok allora buongiorno a tutti e a tutti grazie a Transform per per questa possibilità di confronto in un momento così così drammatico e grazie a due Roberto per diciamo lo sforzo di organizzazione non è mai semplice mettere tante persone insieme a a discutere io procedo per per titoli per stare nei tempi perché insomma l'analisi della della fase che stiamo vivendo è già stata ampiamente sviscerata mi sembra che si possa dire senza timore di essere troppo infatica che diciamo siamo un punto nella storia di snodo un punto periodizzante in cui il genocidio in corso a Gaza le decisioni del consiglio sull'Ucraina quanto sta avvenendo nel Mar Rosso e diciamo da ultimo solo in ordine temporale l'attentato di ieri a Mosca con diciamo tutte le ipotesi di ricostruzione ma soprattutto con sulle cause diciamo sugli attori dell'attentato ma soprattutto su quali potranno essere le possibili conseguenze su uno scenario di guerra già fosco incombono diciamo su questo tempo e in questo tempo e in un anno non dimentichiamolo mai in cui vanno al voto due miliardi di persone quindi diciamo quali saranno le redini delle diciamo dei governi che gestiranno questo snodo periodizzante si va riscrivendo quello che si sta materialmente e concretamente riscrivendo è la rifondazione dell'Europa cioè la cesura con la storia di un'Europa che è nata dopo la seconda guerra mondiale che è nata dopo le diciamo la sconfitta del nazifascismo che cancella ogni tipo di legame storico politico ed etico con con quella storia che invece si rifonda sulla logica della guerra della guerra contro contro l'est della guerra in 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 Medio Oriente della solidarietà diciamo senza riserve con con diciamo quanto sta facendo il governo israeliano e con la missione militare nel nel Mar Rosso anche qui io vado vado per titoli l'Europa che si rifonda sulla guerra le decisioni del Consiglio l'altro giorno la missione nel Mar Rosso le due ultime diciamo i due ultimi macro accordi che hanno segnato la presidenza von der Leyen l'accordo sull'asilo ai migranti e il nuovo patto di stabilità accordi su cui il governo italiano sta giocando un ruolo predominante quello con la Tunisia e quello con l'Egitto anche qui la diciamo riscrittura della logica delle frontiere e appunto infine diciamo le dichiarazioni del presidente francese sulla possibilità concreta che vengano inviati anche soldati in Ucraina allora di fronte a tutto questo e ripeto non voglio entrare diciamo nella descrizione analitica perché già è stato fatto e non ce ne sarebbe il tempo io credo che diciamo per stare ai nostri compiti che poi sempre quello che dobbiamo chiederci io credo che il tema sia se abbiamo una sinistra diciamo sia nei pensieri lunghi sia nei rapporti di forza nel presente che sia capace di mostrare un'alternativa di mostrare concretamente un'alternativa al baratro dentro cui non si può più dire stiamo precipitando ma siamo precipitati e nel 14 non ne avemmo la forza ecco i nostri diciamo per andare alle nostre genealogie nel 14 non ci riuscimmo oggi sì sì parlo più vicino al microfono forse ora si sente diciamo che i pacifisti non diciamo quel che restava della sinistra e del movimento operaio la vigilia della prima guerra mondiale non ebbe la forza materiale per fermare la tragedia anzi diciamo riuscì soltanto a dividersi io oggi credo che noi dobbiamo chiederci questo se abbiamo la forza in termini di elaborazione e di capacità di costruire consenso su una prospettiva di pace per superare diciamo una condizione di marginalità e frammentazione dentro cui siamo lo dico sempre per parlare molto schiettamente e molto concretamente a me preoccupano molto le divisioni nella sinistra europea larga e non nel partito o non solo nel partito nella sinistra europea larga dentro una scena di guerra mi hanno preoccupato moltissimo le differenziazioni sul voto in Parlamento europeo sulla questione della guerra mi preoccupano moltissimo diciamo mi preoccupa moltissimo l'idea che diciamo due piattaforme politiche quella del partito della sinistra europea e quella di Now the People possano ragionare in questa fase in una logica di competizione fra i progetti politici e non di convergenza sulla necessità di fermare questa rifondazione dell'Europa sulla guerra e mi preoccupa moltissimo anche come dire il deficit di luoghi in questo transform può svolgere una funzione fondamentale in cui appunto rielaborare l'alternativa perché sembriamo un po' essere condannati a una divisione fra una sinistra che ha introiettato la logica dell'atlantismo e dell'occidentalismo e diciamo dei residui campisti che esistono e che non ci dobbiamo nascondere e appunto in questo mancano diciamo manca una infrastruttura di pensiero meglio c'è l'infrastruttura di pensiero ma io credo che davvero ci dobbiamo lavorare tanto sia per ragionare appunto sull'idea dell'Europa come spazio diciamo di neutralità mi preoccupa molto ad esempio che una parte della sinistra europea e anche della sinistra in Italia abbia diciamo ceduto all'idea di un esercito europeo come prospettiva diciamo propedeutica alla pace e credo che sia il contrario esattamente il contrario di quello che serve penso che tutto quello che accennava Fausto Bertinotti ma immagino che Nicoletta e altre che interverranno dopo di me diciamo è la necessità di costruire un pensiero forte intersezionale sia esattamente quello che noi dobbiamo fare e se pensate diciamo alla capacità di alla capacità di mobilitare o meglio di raccogliere un'esigenza di partecipazione e di ribellione e di rivolta che ha avuto il movimento femminista nei due appuntamenti del 25 novembre e dell'8 marzo io credo che lì beh ci sia da prendere appunti ci sia da mettersi in ascolto ci sia da studiare perché lì e chiudo davvero su questo lì è in solidarietà con il popolo palestinese secondo me c'è la partecipazione politica di nuove generazioni e lì dobbiamo metterci in ascolto e prendere appunti chiudo e chiudo su questo perché così come ho detto che sia diciamo ecco mi abbia colpito negativamente la come dire il cedimento l'idea che l'esercito europeo possa oggi essere diciamo una soluzione all'Europa che scivola sempre più nella terza guerra mondiale si fa parte attiva diciamo quantomeno di una nuova guerra fredda e diciamo non tanto fredda se stiamo allo scenario ucraino e palestinese e del mar rosso io credo anche che noi abbiamo un grandissimo bisogno di tradurci e per tradurci dobbiamo metterci a studiare perché lo dico io credo che qualsiasi uomo donna che abbia un progetto di trasformazione radicale della società come siamo noi non possa non interrogarsi sulle forme di traduzione di questo pensiero in modalità che possano realmente essere efficaci sul tema della formazione del senso comune credo che noi su questo abbiamo un deficit cioè la rivoluzione nell'età del digitale e della intelligenza artificiale dobbiamo elaborare su questo perché altrimenti noi ci poniamo come obiettivo costante quello di parlare a chi si astiene ma noi non parliamo a chi si astiene se continuiamo ad usare sempre le stesse forme della politica e diciamo le stesse modalità di comunicazione che rendono insufficiente oggi anche persino la comunicazione televisiva faccio un esempio e chiudo davvero io come sapete faccio l'insegnante sono abituata a frequentare tutte le mattine persone che hanno mediamente 30 anni meno di me in questa sala sono la più giovane ed è la cosa che mi preoccupa di più della nostra discussione l'anno scorso dei miei alunni e delle mie alunne con una collega erano impegnati a costruire un lavoro sull'articolotto della costituzione e la libertà religiosa dovevano raccogliere immagini dei diversi luoghi di culto io insegno tra Torbella Monaca e Ponte di Nona perché è di Roma quindi periferia est estrema periferia della città luoghi di culto della città quindi fotografia del Tempio Buddista fotografia della chiesa evangelica a un certo punto vedo al centro di questo puzzle di fotografie un banchetto con le bandiere di sinistra italiana del Partito Democratico io ho detto vabbè o saranno di centro-sinistra lo so chiedo alle mie alunni e ai miei alunni che cosa fosse quella fotografia perché fosse lì prof sui testimoni di Geova io a questa risposta diciamo che mi ha rassicurato sul fatto che non ci sono diciamo inclinazioni diciamo verso il Partito Democratico sulle mie mie studenti e le mie studentesse ma ovviamente diciamo mia poteva essere un banchetto di rifondazione va bene così vabbè una volta tanto non ce la non ce la accogliamo noi però diciamo su come noi abbiamo forme della politica che non arrivano a determinate fasce sociali e fasce generazionali allora un luogo di elaborazione di ricerca di sperimentazione come Transform da questo punto di vista può essere utilissimo e personalmente sono a disposizione se Roberto non mi ammazza do tre date tre date eh il 19-20 aprile ci sarà la conferenza No Pasaran a Lisbona a cui Transform partecipa sulla questione dell'avanzata delle destre in Europa il prossimo ottobre siamo tutti e tutti impegnati nel ventennale della fondazione del partito della sinistra europea e credo che questo sia diciamo un altro elemento importante e lo dico diciamo soprattutto alle compagnie vorremmo organizzare qui a Roma nei prossimi mesi una diciamo iniziativa femminista insieme al forum progressista della sinistra europea proprio per ragionare diciamo su come ripensare lo spazio europeo e fermare l'avanzata delle destre a partire dal femminismo e dall'intersozialità Grazie prima di dare la parola a Natale ricordo che come Transforma Europa noi abbiamo una conferenza annualmente facciamo che si chiama Marx Fem in cui appunto proviamo a intersecare la questione femminista con quella marxista e comunista Natale Cucurese e poi Franco Russo Grazie grazie Roberto buongiorno a tutte e a tutti grazie a Transform Italia per l'invito vorrei iniziare questo intervento ricordando l'abbandono del tema della questione meridionale soprattutto negli ultimi anni sia a destra che a sinistra non che sia una particolare novità già in passato a parte una parentesi negli anni 50 e 60 del secolo scorso la questione meridionale è stata eclissata a favore soprattutto nell'ultimo trentennio della questione settentrionale inesistente così che il mezzogiorno si è trovato contro tutto il blocco del nord costituito dai partiti della destra tutta e anche da molti di quelli di sinistra in particolar modo nei suoi gruppi dirigenti come se non bastasse a nord è appunto spuntato anche un partito territoriale come la Lega con i risultati catastrofici per il sud che tutti conosciamo e con la preparazione della madre di tutte le fregature quella definitiva per il sud cioè l'autonomia differenziata che potrebbe segnare la fine dell'unità del paese ovviamente la scelta dell'autonomia differenziata è solo uno dei tanti scontri che avvengono in Europa tra interessi divergenzi e quasi sempre di natura diciamo così miserabile come lo è la guerra la dicotomia destra e sinistra in realtà al sud ha poco valore per il cittadino del mezzogiorno io ricordo le teorizzazioni del meridionalista Nicola Zitara che fu già negli anni 70 per qualche tempo direttore del giornale lotta continua dove parlava appunto che c'è un profondo legame tra la lotta di classe e la contrapposizione tra gli interessi del nord e i bisogni del sud infatti diceva Zitara non solo il proletariato settentrionale ma anche i partiti ufficiali ed extra ufficiali della sinistra italiana non possono servire due altari perché gli interessi del proletariato settentrionale sono inconciliabili con quelli di quello meridionale il proletariato settentrionale combatte una sua battaglia economicistica e riformistica e anche quando le vittorie politiche e sindacali si traducono in leggi generali il proletariato meridionale non ne beneficia perché tali leggi contemplano situazioni strane all'assetto meridionale in sostanza il proletariato settentrionale convive col capitalismo anche fisicamente e in un certo modo partecipa ai suoi frutti io aggiungo alle briciole dei suoi frutti ai frutti quindi della spoliazione che il capitalismo italiano fa e ha da fatto del sud non a caso il meggior giorno è cancellato persino dal testo della costituzione del 2001 con la riforma del titolo quinto la considerazione che questo stato semplicemente il sud non interessa e lo si vede quotidianamente anche con il razzismo di stato che è imperversa sui media ecco perché con l'autonomia differenziata andremo incontro alla probabile dissoluzione dell'unità e come nel 1861 questo passaggio rischia di essere segnato ancora una volta dal sangue del sud questa volta speriamo solo in senso figurato con la balcanizzazione appunto del paese a meno che la guerra voluta anche dall'unione europea quella che doveva in origine preservarci da ogni nuova guerra non freni momentaneamente il processo di dissoluzione del paese per la necessità diciamo così di carne da cannone non a caso due anni fa in precorsi di tempi in questa stessa assemblea di transform a Roma ero in presenza posi l'accento sul fatto che il 72% dell'esercito italiano è composto da meridionali è il frutto del perdurare del colonialismo interno ben descritto da Gramsci che scriveva che la borghesia settentrionale ha soggiogato l'Italia meridionale e le isole e le appunto ridotte a colonie di sfruttamento il contesto di oggi infatti non è dissimile a una colonizzazione imperialista dove l'impero e l'unione europea e noi meridionali come sempre non abbiamo voce in capitolo e questo non è altro che un momento della lotta di classe attraverso la trasformazione delle masse dei colonizzati in classe dei lavoratori sottopagati così chi parla di sud da sinistra è marginato e diventa spesso scomodo in assoluto soprattutto a destra ma anche da parte di quella da sinistra che non parla più di questione meridionale perché teme di perdere i voti del nord ma facendo così perde il consenso del sud che infatti rapidamente gli ha voltato le spalle a conferma del divorzio tra sinistra e mezzogiorno qua ripeto un discorso che ho portato spesso quindi per costruire l'alternativa popolare di sinistra le parole d'ordine antiliberista ambientalista pacifista antifascista anticapitalista femminista bisogna aggiungere meridionalista il meridionalismo non è una corrente politica ma è semplicemente un'attività di ricerca e di analisi volta a risolvere la questione meridionale per cui se la sinistra non si definisce anche meridionalista è autenticamente protoleghista e qui torniamo alle considerazioni di Zitara da qui la necessità di un partito del sud progressista e di un laboratorio del sud che tenga ben destra a sinistra o almeno a quella sinistra sensibile al tema la necessità di mettere il sud e la soluzione della questione meridionale tra le sue priorità non a caso l'Emilia Romagna si è mosse insieme a Veneto e Lombardia sull'autonomia differenziata e questo ormai è ben evidente ai cittadini del mezzogiorno mi avvio alla conclusione ha sottolineato contemporaneamente che l'offerta elettorale della destra non ha sfondato il sud dove l'elettorato era divenuto nelle elezioni politiche del 2018 molto più mobile che nel resto del paese oggi l'Italia ricordo che viene governata da una coalizione per la quale ha votato meno di un elettore meridionale su 5 4 elettori meridionali su 5 una proporzione altissima che non ha precedenti nel passato non hanno votato per la coalizione vincitrice non sono saliti sul carro del sicuro vincitore questo lo si vede bene nei provvedimenti tutti contro il sud del governo Meloni il mezzogiorno appare quindi più che in passato già all'opposizione basta solo intercettarne le sensibilità concludo bisogna quindi unirsi su più battaglie come scriveva un altro grande meridionalista Gaetano Salvemini nel suo libro Le elezioni di Harvard in cui denunciava oltretutto le inutili divisioni della sinistra che portarono Mussolini al governo oggi però dobbiamo tenere presente che gli eredi del fascismo sono già al governo e quindi dobbiamo cercare di evitare le divisioni sbasate spesso su questioni di visione politica o di teologia tra virgolette politica che l'elettore non comprende più ed unirsi in questo caso sul mezzogiorno dandogli voce e rappresentanza grazie 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 mille Natale come promesso do 5 minuti la parola a Conny che poi ci saluta e ringrazio chiaramente l'interprete Eva che ci ha permesso di avere Cornelia qui con noi prego at first many thanks for the interpretation Eva it's a great work what you are doing many thanks and many thanks also for Roberto to invite me in this meeting because in this moment is it more visible for me again it's not the first time that I'm invited by Transform Italy but you have big resources personal resources and I think you should use this all brings together let me give you only some impression yes I think it's very important that we have to rebuild the left and that means to rebuild also the different blocks we need of course an international block for international solidarity we need and that is very important a new block of the peace building movement and we need the block of the protection of the climate that means we bring we have to bring together all these different blocks and that is not so easy because of course we can also find some differences between and we have to looking for in which way is it possible I think the proposals that brought Alfonso and I think also Bertinotti and other people from you on the table the World Peace Conference I think you are in Italy and of course we have to use this probe because this probe could give us bridges for peace and of course we have to looking for new kinds of block building new kinds of alliances and this could be possible to looking for also people from the feminist movement from the peace movement from the movement against new forms of colonialism I think also this topic is very important so last words before I have to continue my own work we stay in contact that is clear and sometimes it is not too easy to see the big challenges from the left the big problems what we have to handle at the same time to see the division of the left also in different parts in Europe what we have to do more we have to looking for in which way is it possible to bring the challenges in the concrete forms of strategic thinking and strategic thinking that means to bring the challenges in relation in relation of your own goals of our goals what we want to have another Europe is possible of course clear but to bring these goals in relation to your own resources what you have and what you want to build and bring it together in concrete steps of projects and events and meetings that last one the last one is one of the most difficult ones we are good in some analysis but in the to translate this analysis in a kind of strategic interventions that is a challenge for all of us and transform of course will support everything what is going on in Italy and we stay together of course many 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 thanks Connie I think we will see each other very soon e grazie ancora a Deva per la traduzione e grazie a Transform Europa per il grande supporto e sostegno che ci dà e ci consente di avere ciao Connie grazie adesso la parola a Franco Russo si è un po' capito da alcuni interventi molte delle attività che Transform fa diciamo insieme cercando di coinvolgere organizzazioni intellettuali in Italia con Franco in particolare abbiamo costruito l'osservatorio dell'Unione Europea poi anche Andrea Amato poi nel pomeriggio poi presenterà un po' il lavoro che anche con passere va grazie mille per l'invito mi spiace solo che Cornelia non sia non mi ascolti perché avevo una proposta ovviamente innanzitutto per voi ma che era riferita anche a lei la proposta è questa si è parlato di crisi organica del capitalismo proprio nella relazione di Cornelia io penso che prima della crisi organica del capitalismo insieme ad essa c'è una crisi organica della sinistra quindi forse il prossimo ventennale del partito della sinistra europea questa è la proposta che avrei fatta a Cornelia forse sarebbe molto utile molto produttivo per tutti noi se si organizzassero dei seminari intanto anche non solo per capire la crisi del capitalismo pensiamo alla crisi del capitalismo perché da decenni e decenni la sinistra l'alternativa è in crisi e perché non riesce a rimettersi in piedi io penso che questo quindi sarebbe un tema piuttosto interessante a cui mi sentirei anche di dare modestamente qualche contributo crisi organica del capitalismo certo c'è la crisi organica del capitalismo ma dentro la crisi organica del capitalismo a differenza della nostra impotenza le classi dirigenti capitalistiche si muovono rispondono organizzano la loro controoffensiva visto che siamo in guerra e attraverso la guerra riorganizzano anche il sistema capitalistico cioè le due le tre grandi transizioni in energia e ambiente e verde in verità è semplicemente una diciamo così una copertura che i gruppi dirigenti capitalistici mondiale in particolar modo anche quelli europei che più ci interessano stanno riorganizzando il loro sistema produttivo molte cose sono state già dette stamattina cioè a dire che c'è una riorganizzazione appunto militarizzata delle delle produzioni d'altra parte noi sappiamo per esperienza storica che appunto la guerra è sempre uno strumento perché il capitalismo risolva appunto le sue crisi permanenti e così come la Russia lo ricordava Alfonso attraverso la guerra la militarizzazione dell'economia ha risposto alla alla ai tentativi del del cosiddetto occidente di isolarla economicamente così l'occidente il cosiddetto occidente democratico e liberale sta rispondendo attraverso la militarizzazione delle produzioni e la le sue le sue crisi e quindi in questa in questa situazione io penso che l'analisi andrebbe molto accentuata lo facciamo molto come come osservatorio Europa su come appunto si vanno riorganizzando le catene del valore su come si sia una nuova corsa al dominio nel mondo per controllare le cosiddette materie prime critiche che ci sia una corsa nel mondo per controllare le fonti di energie come fra le fronti di energia come tutti ben sappiamo sta risorgendo anche quella nucleare e questa del nucleare mi dà l'occasione per dire che poiché i capitalisti sanno lo sanno quanto è noi che il nucleare costa molto più addirittura delle energie rinnovabili i capitalisti stanno chiedendo a gran voce che le le finanze pubbliche delle istituzioni europee e quelle nazionali a livello dello Stato a livello nazionale diano grandi contributi per per fare in modo che il nucleare possa essere diciamo così competitivo con le altre fonti di di energia quindi i conflitti armati si interrelazionano molto bene con le dinamiche che il capitalismo sta innestando appunto per riorganizzare le sue le sue modalità di organizzazione come le sta riorganizzando queste modalità di produzione le sta organizzando attraverso quello che schmitt avrebbe chiamato i grossroime cioè i grandi blocchi geografici e noi vediamo che appunto si vanno delineando nel mondo alcuni grandi blocchi capitalistici perché questo è l'altro punto che dobbiamo avere ben chiaro noi abbiamo una pluralità di forme di capitalismo certo non non mi metterei mai a a uguagliare il capitalismo tedesco con il capitalismo autoritario e tirannico russo così come non uguaglierei il il sistema capitalistico fascista e reazionario indiano con quello con quello dell'Inghilterra però dobbiamo avere la consapevolezza che unico è il sistema che ormai ci domina a livello a livello mondiale è il sistema capitalistico il quale il sistema capitalistico entra in contraddizione per l'egemonia fra grandi fra grandi fra grandi blocchi come si caratterizza politicamente l'occidente l'occidente io credo che possa essere caratterizzato con una bella espressione che Herman Heller coniò nel 1933 cioè di autoritarismo liberale che di liberale non ha nulla e di autoritarismo molto e in che consiste l'autoritarismo liberale come si coniuga appunto in questa fase storica con questa riorganizzazione delle produzioni dominate dal militare dalla guerra si coniuga semplicemente con due chiare espressioni che Heller ha molto bene in mente che secondo me sono molto utili anche a noi l'autoritarismo liberale ha due facce ha una faccia interventista nei confronti del capitalismo cioè a dire le sonvenzioni pubbliche e l'intervento pubblico per dominare il conflitto sociale è una faccia astensionista per quanto riguarda invece il welfare e i servizi sociali cioè lo Stato si astiene da fornire ormai questi servizi che vengono sempre più mercatizzati in maniera che anche questi campi che la lotte operaie e popolari hanno sottratto al mercato rientrino all'interno del mercato capitalistico quindi secondo me questa categoria di Heller del 1933 del cosiddetto liberalismo autoritario può anche aiutarci oggi a comprendere appunto soprattutto le dinamiche istituzionali che cosa fa la sinistra nel nostro continente per contrastare la guerra per contrastare questa nuove forme di colonialismo è stato richiamato il piano il piano Mattei e c'è una grande corsa a dominare l'Africa perché tutti sanno che l'Africa è ricca di risorse sia umane sia naturali e quindi c'è il conflitto fra l'Unione Europea la Cina la Russia soprattutto di questi tre attori all'interno dell'Africa e l'Italia vuol giocare la sua parte e attraverso appunto il piano Mattei anzi essere la punta di lancia dell'Unione Europea in quel il quel continente l'Unione Europea è stata detta io non posso che ribadirlo si atteggia sempre più come attore globale e l'Unione Europea è presente ormai sullo scacchiere sullo scacchiere anche asiatico stringe alleanze attraverso con l'Australia e il Giappone la Nato pure si affaccia su quel su quel continente la Nato è diventata appunto lo strumento militare di contenimento del e per affermazione del del livello di competitività dell'Europa e la Nato diventa sempre più il punto di riferimento per l'esercito europeo eh anche all'interno su questo sono sempre d'accordo abbastanza con Roberto su questo d'accordo con Roberto Musacchio cioè non dobbiamo vedere appunto semplicemente un allineamento negli anni cinquanta dell'Unione Europea agli Stati Uniti perché l'Unione Europea vuole giocare una partita improprio come attore autonomo all'interno dello scacchiere globale l'ultimo punto che non so se questi punti d'altro pante erano semplicemente abbastanza ripetitivi di quel che ho sentito stamattina su questo sicuramente non ho una buona non avrò un buon ascolto fra di voi ma però la trasparenza e il mio nome mi impongono sempre di dire quel che penso e penso che fate un errore ulteriore ancora una volta a presentarvi alle elezioni e dobbiamo metterci in testa che non si costruisce dal dall'alto una sinistra politica alternativa si costruisce dal basso e consentitemi due battute finali e che sono queste mi ha veramente colpito per questo anche mi distrace Roberto non mi ha messo in contatto con Cornelia perché amo dire le cose abbastanza di persona mi ha molto colpito la relazione di Cornelia perché ha usato semplicemente i sondaggi cioè ci ha esposto l'eurobarometro che tutti quanti possiamo leggere e mi ha colpito profondamente perché io ho sempre pensato che una sinistra sia in grado di produrre cognizione sociale autonomamente cioè ho sempre pensato che la sinistra dovesse avere un punto di vista autonomo non perché intellettualmente superiore agli altri ma perché la sinistra essendo radicata all'interno della società produceva conoscenza sociale autonoma diversa quindi dal tipo di cognizione che a cui giunge il capitalismo il quale giunge attraverso i suoi sistemi cioè l'impresa il governo i grandi centri studi e le università i centri di i centri di ricerca se tutto appoggia l'eurobarometro beh è segno che i tuoi tentacoli sociali non esistono più ma se non esiste più un radicamento sociale mi chiedo a rappresentanza di chi si va in Parlamento sia nazionale sia a livello sia a livello europeo e in più e in più ogni volta che si conosce una sconfitta non ve l'auguro ovviamente c'è un periodo di frustrazione che dobbiamo che dobbiamo tutti quanti superare perché appunto siamo andati incontro a una sconfitta ma la sconfitta è già nelle cose perché quando anche tu vai in Parlamento europeo l'esperienza della sinistra francese ce l'ha insegnato me lasciò c'aveva il 20 il 23% me lasciò oggi è spaccato in 40 pezzi all'interno all'interno della Francia io sarei molto interessato non lo dico provocatoriamente a capire come mai all'interno della sinistra di D-Link quello che era il punto di riferimento della sinistra europea si è prodotto un fenomeno come quello della Wagenrecht me lo dovreste spiegare come mai all'interno della sinistra nasce un populismo reazionario di quella di quella portata noi non possiamo continuare a nascondere dietro questi fatti drammatici che hanno attraversato la sinistra italiana ed europea e non semplicemente farci degli auguri siete tanto bravi e andiamo avanti non siamo bravi tant'è vero che siamo stati sconfitti vi ringrazio per l'attenzione sì riflessione amare ma condivisibili anche se insomma un po' di discussione le apre e vorrei chiedere a Leopoldo Tartaglia che è collegato con noi e poi dopo dare la parola a Elena Mazzone con Giuseppe De Marzi grazie mi sentite mi sentite ti sentiamo ma ti vediamo male perché ho un problema aspetta forse un po' meglio questo è il massimo che riesco a fare vi chiedo scusa no vi ringrazio ovviamente per l'invito e mi dispiace non essere presente lì credo che c'è diciamo indirettamente o direttamente anche una forma di collaborazione fra noi della sinistra sindacale e in particolare il periodico che facciamo e transform e colgo appunto l'occasione anche per ringraziare tutti i compagni e le compagne che molto spesso intervengono sul nostro periodico che ci aiutano ad allargare diciamo il campo della nostra visione e anche noi siamo molto preoccupati e siamo impegnati con le forze che abbiamo nel ragionamento di portare avanti una cultura contro la guerra contro l'Europa fortezza 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 chiusa all'immigrazione contro l'Europa che ormai ha abbandonato contro la visione di Europa che ormai ha abbandonato qualsiasi idea di Europa sociale credo però sono d'accordo con tutte le analisi che sono state fatte finora e ovviamente non sono il più adatto per riprenderle quindi forse vale la pena che dica qualcosa su questa fase impegnativa per tutti ma impegnativa anche per la CGL di mobilitazione sociale martedì ci sarà l'Assemblea generale della CGL che deciderà un percorso di mobilitazione di raccolta di firme su alcuni referendum abrogativi e su alcune leggi di iniziativa sociale e leggi popolari e naturalmente già fin d'ora abbiamo dichiarato e abbiamo praticato non solo il nostro impegno e la nostra mobilitazione nel movimento pacifista nel movimento contro la guerra nel movimento contro il cambiamento climatico ma ovviamente già fin d'ora diciamo sappiamo che insieme ai referendum sociali e alle proposte e le iniziative di legge popolari sulle quali ci mobiliteremo insieme le associazioni del percorso della via maestra cui la CGL ha dato vita ovviamente ci sarà l'impegno fondamentale lo citava prima Cucurrese ma non solo lui contro l'autonomia differenziata e contro il premierato e sappiamo che anche lì dovremo appunto metterci bene in moto e organizzare un ampio schieramento sociale per quei referendum per quanto riguarda diciamo i temi più sociali è già stato detto cioè da una parte la guerra dall'altra appunto la guerra non dichiarata ma fatta contro i migranti dall'altra parte l'esplosione delle eguaglianze per quanto riguarda il mondo del lavoro significa arretramento dal punto di vista salariale significa arretramento dal punto di vista dei diritti significa le catombe quotidiana di morti e di infortuni sul lavoro c'è stata ieri l'assemblea a Firenze dei delegati degli RLS RLST della CGL e della UIL ci sarà l'11 uno sciopero proclamato da queste due confederazioni l'11 aprile il 20 aprile una manifestazione nazionale a Roma il 25 il 25 maggio saremo a Napoli in una manifestazione che rilancerà appunto il tema dell'unità del paese della democrazia contro l'autonomia differenziata e il premiato quindi credo che siano temi su cui è importante che ci sia un confronto mi piacerebbe entrare nella discussione che ha aperto adesso Franco sulla sinistra ma insomma credo che la cosa più importante fra noi e vi ringrazio di nuovo per l'invito sia quella appunto di una battaglia culturale fatta in tutte le sedi con tutti gli strumenti piccoli o grandi che abbiamo per ricostruire un pensiero della sinistra e poi ovviamente il grande problema è il radicamento sociale è un problema che ovviamente in termini completamente diversi abbiamo anche come sindacato abbiamo come sinistra sindacale però è chiaro che non c'è ricostruzione di un pensiero se non c'è contemporaneamente ricostruzione di legame sociale e i prossimi mesi saranno fondamentali mantenendo al centro la battaglia contro le guerre per la pace per la fine del genocidio a Gaza per il riconoscimento dello Stato palestinese e tutte le battaglie sociali di cui avete parlato e sulle quali siamo impegnati vi ringrazio ancora buon lavoro grazie Leopoldo Elena e Peppe la faccio io perché lui non lo fa poi a Maurizio Ascerbo Riccardo Petrella Paolo Cacciari pausa per pranzo che ci aspettano e poi tutti gli altri nel pomeriggio compreso io che sarò l'ultimo prima di chiudere la porta sì sì spieghiamo tutto spieghiamo tutto spieghiamo perché siamo in due vabbè io sono Elena Mazzoni perché non mi conosce e faccio parte del direttivo di Transform Italia e accanto a me Giuseppe De Marzo come portavoce della DT dei numeri pari ma anche direttore scientifico della scuola GEA abbiamo deciso di fare questo intervento insieme ma soprattutto anche per rompere un po' la classica modalità che c'è sempre per cui ognuno viene racconta a se stesso dice quello che pensa spiega fa lo spiegone di come gli altri si dovrebbero comportare e noi vogliamo provare a fare una cosa diversa nel senso che più che spiegare agli altri quello che dovrebbero fare vogliamo provare a restituire quella che è l'esperienza di un anno e mezzo che Transform Italia ha fatto dentro la rete dei numeri pari e quindi come prima cosa vorrei proprio chiedere a Giuseppe di dirci per chi non lo sa cos'è la realtà della rete dei numeri pari e che cosa che cosa rappresenta e poi andiamo sulle esperienze che abbiamo fatto insieme il lavoro che abbiamo fatto e che faremo ancora intanto grazie per il vostro invito brevissimamente per un minuto comunque potete eventualmente digitare numeripari.org su internet e cercare la rete dei numeri pari nasce dalla campagna lanciata da Libere Gruppo Abele Miseria Ladera undici anni e mezzo fa circa quando nel nostro paese iniziarono a saltare anche i numeri della povertà vi ricorderete quando è iniziata insomma con l'austerità e quindi Ciotti ci chiese di provare a costruire una campagna sui temi del reddito del salario quindi magari qualcuno si ricorda ma dopo cinque anni di tante pacche sulle spalle dalla politica e quindi una campagna di successo non avevamo ottenuto nulla e quindi decidemmo di ritornare sul campo cioè sul campo vuol dire dico campo per non dire il basso perché è una parola che è stata troppo utilizzata e cioè di provare a mettere insieme quello che è appunto la rete dei numeri pari tanti soggetti sociali di varia taglia e misura per cui Libera Nazionale vale quanto il Comitato di Mamme della Romanina il coordinamento di insegnanti di Torbella Monaca vale quanto Lega Coop Sociali quindi di mischiare tutte le realtà che condividevano come priorità sconfiggere diseguaglianze e mafie che condividevano sette obiettivi che abbiamo lanciato proprio in questa stanza con tanta gente che arrivava per strada un anno e mezzo fa c'è l'agenda sociale firmata da 700 realtà quindi alcune proposte concrete costruite da realtà come transform e poi abbiamo deciso che questo anche questo non bastava per impastarci di realtà come tu ricordavi e quindi abbiamo deciso di sporcarci le mani perché se poi le scarpe sono troppo pulite non si capisce e siamo una rete che fa mutualismo penso che siete tra i nostri maestri su questo quindi non devo spiegare a voi la differenza fra controsolidarietà e volontariato e siamo una rete che è stata studiata quindi vi invito perché questo invece è materiale scientifico che può essere utile a transport ringraziamo Elena per questo lavoro poi di reciprocità il Gran Sasso Science Institute quindi l'università l'accademia più importante di fisica d'Europa ha deciso quattro anni fa di studiare con un progetto di ricerca la rete dei numeri pari per dire ma voi come cacchio avete fatto durante la pandemia durante questa situazione di crisi a garantire servizi e sostegno per più di 200.000 persone in Italia da Marsala a Piuli e quindi ha estratto a sorte 112 in realtà su 700 della rete su quattro assi di mutualismo cibo, servizi robe di questo tipo potete scaricare la ricerca perché è utile è utile perché c'è una geografia della speranza in Italia fatta di donne e uomini che magari non hanno lauree che non hanno testere di partito non sanno magari manco di essere di sinistra o ecologisti un po' come l'ecologismo dei poveri ma sono impegnati contro diseguaglianze e mafie fanno attività di mutualismo sul territorio e quindi costruiscono una maggiore fraternità nell'azione di solidarietà continua ecco questo è quello che fa la rete l'ultima campagna rilevante ve la ricorderete che ci avete aiutato e quindi un grazie di cuore è stata quella che lanciamo insieme ai comitati quella contro l'autonomia differenziata ovviamente abbiamo il coraggio di fare quindi questo è il lavoro che cerchiamo di fare grazie a realtà come transform sì una realtà come transform che insomma come sappiamo bene come abbiamo visto anche questa mattina è una fondazione è un centro studi è un centro di ricerca quindi sembra un po' originale che un centro studi è un centro di ricerca una fondazione sì della sinistra europea quindi comunque che fa politica sia dentro una rete una rete del genere in realtà da questa interazione tra la rete di numeri pari e transform sono date tante esperienze che alcune quelle che Giuseppe ricordava prima abbiamo attraversato in questo anno e mezzo veramente tante realtà ma anche tante vertenze territoriali perché comunque io faccio parte di transform ma rappresento anche i comitati che lottano contro l'inceneritore di Roma nella provincia dei castelli romani e quindi anche in questo la rete dei numeri pari non ci ha mai fatto mancare il sostegno anche transform che comunque ha sempre anche diffuso quello che noi facciamo quindi quello che vorrei chiedere a Giuseppe oggi magari proprio nel suo intervento di dirci qual è il ruolo di una fondazione di un centro di ricerca cioè c'è ancora bisogno di studiare ancora di formarci ancora cioè quante realtà quanti dirigenti quante persone in grado di restituire quella che è la vera politica la rete dei numeri pari in questi anni ha incontrato e dove la incontrate? Sicuramente c'è bisogno di studiare per cui la ricerca e l'azione sono due cose che vanno collegate questa idea per cui bisogna chi fa non pensa e chi pensa non fa insomma mettiamocela via si può fare pensare pensare e fare senza dire cosa deve venire prima quindi il tema è che un attivista che sta a Marsala noi lavoriamo con le persone impoverite e lavoriamo con un ibrido di relazioni sociali perché tu puoi trovare dall'operatore del sociale che quindi ha una sua professionalità uno psicoterapeuta ha l'attivista del comitato che ha altre motivazioni quindi per dirvi che nessuna di queste figure che vi ho non a caso citato su quello che riguarda il contrasto alla povertà quindi i servizi sociali il mutualismo nessuna di queste figure ha il tempo per fare ricerca non ce l'ha e anzi vi dico la verità se non avesse fatto il Gran Sasso Scientist Institute se non avesse investito immaginate 100.000 euro per pagare quattro ricercatrici che dovevano andare sul campo per tre anni e fare e come facevamo noi cioè non lo posso fare nemmeno io da responsabile nazionale di Libera per le politiche sociali forse ho il tempo di scrivere un articolo a settimana per l'Espresso ed è un miracolo quindi non si sistematizza niente ed è un dramma penso soprattutto per le forze della sinistra perché rischiamo di riprodurre lo stesso errore banalmente o da ecologista vedo una confusione spaventosa che è peggiore rispetto agli anni che con Patrizia Sentinelli lavoravamo sul tema della cooperazione internazionale e siamo stati tra i primi a portare i concetti di giustizia ambientale sembra che si vada indietro si ripropongono lo sviluppo sostenibile quindi siamo dentro una forma di ambientalismo subalterno spudorata e accettata quindi avremmo bisogno anzi di centri di ricerca che legittimano anche perché la cosa pazzesca per me da uomo di sinistra ups lo devo dire perché uno se lo deve dire ciò che è nella vita è che sia il Papa a dover invitare la rete così spoileriamo un fatto che troverete sui giornali a un primo incontro storico dei movimenti popolari con il Papa e siamo noi a dover essere legittimati su quello che facciamo in termini di ecologia sociale proprio perché non ci sono più centri di ricerca come Transfo non ci sono più partiti che evidentemente investono sulla necessità di sistematizzare nuove idee legate alle pratiche quindi un po' come dice Enela che poi ci fate lo spiegone che non parte dalla prassi ma porca miseria dovremmo essere tutti i gramsciani allora la prassi guida la teoria ecco nel nostro piccolo la geografia della speranza che esprime la rete di cui Transfo è parte perché avete avuto l'umiltà di starci ha tirato fuori anche delle teorie dalla prassi interessanti ad esempio noi sappiamo che contrastare la mafia sei più bravo tu che non c'hai un logo importante perché il welfare sostitutivo mafioso sui territori si contrasta di più facendo un comitato che fa accoglienza o fa un laboratorio per i migranti questo ci dice la ricerca sono cose interessanti anche sull'ecologia noi abbiamo sistematizzato delle cose ma non abbiamo luoghi di ricerca che possano sistematizzarli quindi questo ci manca e insomma noi siamo felici di andare dal Papa però siamo una rete laica qui siete nella casa delle donne le donne sono tra le fondatrici della rete dei numeri pari quindi sarebbe più utile avere più realtà come trasformo o quantomeno un interesse maggiore delle forze politiche di sinistra per quello che dal basso dai territori è emerso perché abbiamo visto che questa azione si è interrotta grazie Giuseppe e grazie a voi per l'attenzione e anche insomma ci perdonerete questo modo d'alternativo che abbiamo voluto portare e noi ci auguriamo come trasforma siamo sicuri che il lavoro che abbiamo fatto dentro la rete dei numeri pari che veramente ci ha arricchito tanto l'abbiamo fatto con umiltà ha ragione Giuseppe ha fatto bene utilizzare questo termine perché ci siamo sempre posti non come quelli che sapevano tutto ma come quelli che avevano molto da imparare anche questa esperienza che andremo a fare da assolutamente laici e laiche con i movimenti popolari a Verona siamo veramente contenti che transform come realtà appunto promotrice della rete dei numeri pari abbia questa opportunità e siamo insomma contenti oggi di restituirvela perché siete comunque tutte e tutti parte di transform e quindi nel momento in cui noi andremo in quel luogo particolare speciale insomma ci sarà comunque parte di transform con noi tra l'altro alcuni compagni compagni di transform stanno proprio anche dentro i tavoli che sono stati avviati verso questo percorso dell'arena di pace di Verona venti ventiquattro continueremo a tenervi informati come diceva Giuseppe ha spoilerato però appena usciranno le cose ufficiali transform con la sua potente newsletter e il suo sito arriverà a tutte e tutti voi grazie ancora buon proseguimento Maurizio Acerbo intanto che arriva ricordo anche che transform Europa sta promuovendo anche un progetto di dialogo marxisti e cristiani cattolici e abbiamo fatto anche l'incontro qualche mese fa con il Papa direttamente proprio per promuovere questa questa possibile cooperazione dialogo che è sicuramente fatto tra diversi e quindi non un appiattimento su una posizione o sull'altra ma la possibilità di guardare le difficoltà del mondo e provare a a costruire sinergie questo era il senso e quindi sono contento anche che Transform Italia partecipe alla rete dei numeri pari e che partecipe con questa a questo dialogo che non è più solo a distanza con il Papa Maurizio ci è rimasto solo il Papa diciamo e non lo dico perché credo che questa questo incontro di oggi di Transform si inserisce in una fase in cui abbiamo bisogno di dirci parole di verità da questo punto di vista condivido le cose che diceva Franco Russo siamo di fronte a una crisi della sinistra radicale in Europa come dimensioni enorme qualche anno fa venivano dagli altri paesi europei un po' baldanzosi e ci dicevano che loro non avevano i problemi italiani o la sensazione che stiamo marciando molto rapidamente alla condivisione dello stesso quadro di problemi dalla spaccatura in Germania ma anche quella in Spagna anche se in Francia o il quello che è accaduto in Grecia con la mutazione di Siriza ricordo che nel 2014 eravamo dentro un ciclo in cui si sperava che da Atene partisse non dico la rivoluzione europea ma una messa in discussione del neoliberismo sul nostro dell'egemonia del neoliberismo sul nostro continente ricordo che quando andammo in centinaia con la brigata Calimera Atene faceremo un primo incontro all'università affollatissimo dove il nostro amico di Transform Aris Golepo disse una cosa bellissima profetica purtroppo disse oh riusciremo a cambiare la Grecia e quindi anche l'Europa a dare il via a un processo europeo oppure ci faranno fuori come hanno fatto fuori agli Ende eccetera oppure ci omologheremo come già accaduto a tante altre formazioni della sinistra in Europa mi pare che il mix delle ultime due opzioni si sia realizzato lo dico non per colperiorizzare le compagnie e i compagni che in Grecia hanno comunque fatto grandi cose per i quali conservo il massimo rispetto ma per dire che siamo dentro in una fase in cui viene il dubbio su cui secondo me noi dovremmo fare una riflessione radicale su quanto il sistema politico economico in cui siamo inseriti sia oramai talmente blindato rispetto alla trasformazione sociale al cambiamento per cui anche le spinte che sembrano più forti poi vengono in qualche maniera rimesse al loro posto è accaduto in Gran Bretagna dove il corbinismo che aveva dimensioni di massa è stato praticamente ricacciato indietro si è preferita la Brexit ad avere un governo di ispirazione socialista e anche suggerirei anti imperialista e anticolonialista perché Corbyn forse era indigesto per le sue visioni di politica estera ancora più che per le sue visioni di politica interna sociale economica e abbiamo visto insomma come anche come sinistra europea nel suo complesso in tutte le sue componenti sia quella che sta nel partito della sinistra europea ma anche le forze date successivamente non siamo riusciti neanche a diventare protagonisti di un grande movimento in Europa contro la guerra che pure da due anni condiziona completamente la vita del nostro continente della sua evoluzione politica sociale economica e da questo punto di vista io invece non condivido un aspetto dell'intervento di Franco dialogo con lui perché perché mi ha stimolato quello dei sondaggi evidente che noi dovremmo leggere la realtà non attraverso i sondaggi che tra l'altro la fotografano e molto spesso la creano in funzione conservatrice però le elezioni sono anche un metro a cui non ti puoi sottrarre è come la riuscita di uno sciopero noi sempre più rischiamo di diventare come quei gruppi americani in sinistra generosissimi ma totalmente ininfluenti e risosi tra di loro divisi eccetera poi con analisi bellissime però sostanzialmente non in grado di incidere sulla vita della propria società e le elezioni questo ce lo ricordano perché comunque riguardano i milioni il giorno delle elezioni milioni di persone decidono se andare a votare o non andare a votare e i sondaggi un po' questo lo fotografano e quindi ci ricordano che la politica almeno la nostra se ha l'ambizione di avere una forza di cambiamento sociale deve trovare tutte le vie più originali possibili le analisi più profonde però non può non fare i conti con i milioni perché io quello che vedo come pericolo della nostra area è che sempre in più ci abituiamo alla contemplazione del nostro piccolo mondo e delle nostre bolle invece noi credo che abbiamo il dovere morale e politico di tornare a ragionare su come si costruiscono dinamiche di massa sul piano sociale e sul piano politico io penso che non possa essere in nessuna maniera scantonato il tema della rappresentanza perché è vero che gli altri sono in crisi però negli altri paesi europei la sinistra radicale in qualche maniera è ancora protagonista del dibattito pubblico e questo io credo che incida anche sulle dinamiche sociali come dimostra la vicenda francese mentre nel nostro paese oramai da troppi anni siamo al di fuori del dibattito pubblico e questo è uno degli quando dico del dibattito pubblico del dibattito che riguarda i milioni di persone in carne ed ossa perché poi alla fine quando nei bar si discute come ci ha insegnato Lula quando si vende a trovare all'uscita dal carcere delle cose che proponi tu che vuol dire che qualcosa stai facendo dal punto di vista della trasformazione lo dico perché siamo di fronte e vengo alla questione che più mi interessa in questo momento e che è stata evocata in molti interventi alla nostra impotenza rispetto alla guerra e quello che sta accadendo lo avete detto tutti prima di me quindi non devo aggiungere molto altro è dimensioni di una gravità estrema che alcuni anni fa sarebbero state impensabili pensate un po' il fatto che discutiamo del ritorno della leva perché c'è bisogno di truppe per fare le guerre è una cosa così come come ci ha ricordato il regista della zona di interesse noi siamo di fronte a un genocidio in diretta teletrasmesso quotidiano di cui allora rispetto a tutto questo io credo che noi abbiamo l'esigenza di ragionare sia come rompere la gabbia in cui ci troviamo in Italia ma non solo in Italia dobbiamo anche credo ragionare su una cosa che è una sconfitta enorme tra di noi cioè l'alternanza tra poli molto simili appassiona le grandi masse più della guerra in Ucraina e dello stesso genocidio a Gaza in altri tempi il vertice del partito socialista europeo l'avremmo accolta a Roma con gli scontri fuori la porta dato che il vertice di uno del partito di Stoltenberg ma si è svolto 10-15 giorni fa a Roma in cui tra l'altro dal punto di vista degli impegni assunti sulla questione della guerra non c'è stato alcun dibattito cioè nel senso che mi pare che siano tutti d'accordo non è che ci sia stato una parte che ne so è Lichlein che ha polemizzato qualche di un altro dicendo no come socialisti europei dobbiamo riprendere in mano l'erenità di Willy Brandt e di Olof Palme non mi pare lo stesso Consiglio europeo vede sostanzialmente con toni diversi la convergenza di tutti non ho sentito resoconti in cui qualcuno ha sbattuto la porta di fronte a questa grammaticità io credo che noi dobbiamo prendere sul serio la questione della guerra e lo dico io considero anche una sconfitta che dentro la sinistra non abbia intesa anche nel mondo intellettuale della sinistra non qui dentro fortunatamente non abbia la centralità che dovrebbe avere anche la drammaticità un grande poeta americano Lorenz Ferlinghetti diceva che il sistema politico americano era un uccello è un uccello con due ali destre perché sostanzialmente i due principali partiti poi se si tratta di bombardare i popoli del terzo mondo sostanzialmente non hanno grandi differenze e noi in Europa stiamo diventando la stessa cosa lo stiamo diventando in Italia e questo riguarda anche il cuore del nostro popolo cioè di quelli che con noi hanno condiviso per anni manifestazioni social forum eccetera eccetera io lo dico come tutti voi sono un antifascista però santo cielo e voglio dirlo durante il governo Draghi in almeno cinque città italiane gli studenti sono stati sprangati dalla polizia come a Pisa e non c'è stata nessuna reazione di nessuno manco ha fatto il paragone con Genova lo dico a mio compagno Giovanni è normale amministrazione perché c'era il Partito Democratico al governo il TG3 non ne ha fatto la prima notizia nessuno si è strappato le vesti alle 20 e 30 di Gruber ed è tutto finito così rispetto a questo scenario che ha qualcosa di totalitario a mio parere perché dà l'idea che sulle cose serie essenziali non si discute più non ci si appassiona più anche la vicenda del Comune io ve lo dico perché io penso tra l'altro che sia necessario recuperare una dimensione unitaria della sinistra in Italia quindi il mio intervento non ha uno sfondo settario però francamente che la vicenda del Comune di Bari dove delle Stofanti che dal centro-destra sono passati al centro-sinistra perché in Puglia hanno arruolato di tutto e di più dentro il centro-sinistro chiamatelo come si chiama eccetera diventi una super battaglia democratica che riempie le piazze francamente a me dà l'idea che il bipolarismo ha vinto ed è una gabbia d'acciaio molto che segna la vita politica del nostro paese in una maniera molto drammatica perché cancella anche gli elementi più drammatici diceva un grande scrittore molto pessimista americano William Barrox che quando e su questo chiudo quando in un sistema politico in un dibattito da presidenti degli Stati Uniti diceva se entrasse un elefante non se ne accorgerebbero e poi l'ha ripreso l'Acoff nella famosa un guardare dell'elefante ecco noi abbiamo la guerra e stiamo ancora a discutere e appassionarci delle elezioni nella mia regione dove l'Alleanza Verdi-Sinistra ha eletto un solo esponente ed è uno che era dieci anni fa candidato col centrodestra per dire non il PD l'Alleanza Verdi-Sinistra dico tutto questo per dire che se almeno riusciamo a usare la campagna elettorale delle elezioni europee per farne una campagna di massa contro la guerra avremo fatto qualcosa di utile cioè cercato di restituire al di là delle percentuali ovviamente io auspico una battaglia per fare sì che ci sia una sola lista di chi è contro la guerra e contro il genocidio e il massacro a Gaza però se riusciamo a farne una campagna che almeno costringa a discutere della questione più importante in questo momento avremo fatto una buona cosa e dobbiamo tutti lavorarci e voglio citare solo un tema di lavoro riprendendo per Trasform e tutti noi riprendendo l'intervento di Fabio è vero la critica dell'ettonocentrismo sacrosanta del colonialismo occidentale anche l'idea che lo stesso amico e compagno Michele Santoro con cui condivido molte cose compresa la lista però questo problema a dire la parola genocidio la storia dei genocidi non è cominciata con l'olocausto anzi l'olocausto l'ha importata in Europa dopo che su scala industriale si è fatta in tutto il mondo da parte dell'Occidente e quindi si può usare la parola genocidio anche quando si consuma da qualche altra parte un tema però che ci dobbiamo porre io credo è che la critica dell'elettnocentrismo dell'eurocentrismo del colonialismo che stiamo vedendo all'opera anche nella solidarietà io ritengo obrobrioso per esempio la maniera con cui tutto il sistema politico italiano ha espresso appoggio incondizionato a Israele dopo il 7 ottobre avendo Israele un governo fascista cosa che non è una circostanza scoperta dopo quattro mesi però io credo che noi come sinistra che rimane tale abbiamo un problema su cui riflettere come la critica del colonialismo dell'ettono dell'eurocentrismo eccetera non si traduca in critica dell'universalismo perché noi rischiamo che il capitale in questa fase assai distruttiva e predatoria produca non solo la barbarie occidentale ma forme barbare di opposizione all'unipolarismo occidentale altrettanto repellenti e quindi come salviamo l'universalismo delle culture socialiste comuniste femministe ambientaliste cioè il progetto di una umanità comune di una futura umanità di libere ed uguali grazie do subito la parola a Paolo Cacciari che è in collegamento poi non so non vedo Riccardo Riccardo prima eccoci ci sei sì grazie Roberto per per l'invito sarei veramente felice di essere a Roma ma sono influenzato perché avrei incontrato tanti amici e tanti reduci di tante battaglie che da tempo che non vedevo tutti insieme e già questo è un merito di transform quello di essere diciamo una sede dove ancora ci si parla noi soffriamo credo tutti noi appunto siamo tutti dentro le nostre c'era un sociologo che parlava di imbozzolamento della società siamo tutti dentro i nostri bozzoli più o meno più o meno che ci danno più o meno soddisfazioni perché facciamo tante cose nel sociale e così via e però siamo appunto siamo limitati nelle nostre cose già questa è una Roberto forse mi avete invitato anche per dare diciamo io sono da molto ormai impegnato più sul fronte diciamo sul versante sul bozzolo dell'ecologia e quindi è importante anche questi questi incontri per anche solo per confrontare registrare le agende quindi io voglio solamente dire che il 18 aprile ci sarà di nuovo uno sciopero sul uno sciopero sul clima che quest'anno poi sarà vedrà delle delle connessioni importantissime con il movimento con il movimento dei lavoratori ci sono alcune esperienze da Civitavecchia la GKN che stanno dicendo come le cose possono possono intrecciarsi gli obiettivi possono intrecciarsi non è vero che la battaglia per la difesa e la conservazione dell'ecosistema della biosfera debba necessariamente essere in contrasto con i posti di lavoro l'occupazione e diciamo così in genere l'economia ma io non vorrei parlarvi di questo perché altrimenti sento che pensiamo ad una unificazione delle sinistre per giusti giusta posizione per sommatoria e le cose non funzionano così le cose non funzionano così Roberto Finelli parlava delle età che siamo nell'età delle catastrofi e quindi appunto la crisi è una crisi sistemica è una crisi non solo sociale economica e così via non solo ecologica io direi che siamo per usare una vecchia definizione di Ernesto De Martino siamo in una catastrofe culturale siamo in una catastrofe culturale io non so se questo derivi dalla crisi del capitalismo anche perché vorrei capirne di più dovremmo fare appunto delle delle sezioni più tematiche degli approfondimenti magari con delle analisi con delle ricerche degli studi perché a me pare che il capitalismo vive delle crisi si arricchisce con le crisi i livelli di profittabilità delle multinazionali in questo momento sono ai massimi storici quindi dove diavolo è la crisi del capitalismo la crisi del capitalismo è la crisi nostra il capitalismo si arricchisce nella misura in cui riesce a impadronirsi del sottomettere e depredare la natura e sfruttare e sfruttare i lavoratori sfruttare il lavoro siamo in un periodo di neocolonizzazione la neocolonizzazione oggi è quella del carbonio è quella degli scambi di quote di autorizzazioni all'inquinamento sono queste cose qui sono la messa in valore della natura la messa in valore quella che appunto chiamano con questo tremenda neologismo capitale naturale c'è il capitale umano che è appunto l'umanità da sfruttare il capitale naturale che sono le risorse economiche da mettere nel circuito della valorizzazione del capitale della produzione dell'acqua quindi tutto si integra ma il punto su cui io vorrei chiamare l'attenzione le vostre che non sono tanto dice siamo in gabbia non mi pare cioè il punto è che quando quando dico di catastrofe culturale che viene prima della catastrofe ecologica prima della catastrofe economica prima di tutto è che hanno consenso su questa questione qui la pulsione di morte la pulsione di morte sempre per usare Roberto Finelli è il brodo di cultura delle destre il brodo di cultura delle destre che che porta appunto a dei disturbi paranoidi della personalità l'accidia l'anaffettività la malevolenza tutti questi sentimenti che stanno conquistando anche i giovani appunto che sono la base della 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 società a questi dobbiamo rispondere a questi dobbiamo rispondere la politica deve rispondere e come risponde la politica su queste cose qui semplicemente col ragionamento con la logica con la geopolitica con con queste cose qui non credo dobbiamo dobbiamo rispondere a questi a questi sentimenti a queste pulsioni di morte a questa macchina di morte che è il capitalismo il capitalismo è una macchina di morte non solo perché uccide la natura perché sfrutta le cose ma una macchina di morte perché uccide i sentimenti uccide uccide il bisogno l'amore innato che viene gli esseri umani e c'è un piano un piano deliberato per per annullare l'empatia prima ancora che una dissoluzione dei rapporti economici umani c'è una c'è una dissoluzione dei rapporti sentimentali tra le persone tra le persone e allora come si risponde a questa questione della guerra che siamo appunto giustamente veniva ricordato dalle nore alle altre siamo gli esempi storici più vicini sono quelli dei 14 insomma siamo lì siamo in una situazione di preguerra siamo in una situazione di preparazione ci stanno preparando alla guerra e ci stanno preparando alla guerra con anche proprio psicologicamente allora dobbiamo rispondere a questa altezza non con insomma abbiamo capito con la politica con queste cose qui e allora dobbiamo andare ai fondamenti della 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 politica dobbiamo rifondare un pensiero dobbiamo rifondare un pensiero della sinistra dell'ecologista del femminista un pensiero io non so come dire ecosocialista esplicitamente ecosocialista femminista anticoloniale diceva adesso Maurizio internazionalista dobbiamo rifondare rifondare questo allora quando come possiamo fermare fermare queste pulsioni di morte che la società sta 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 creando non la guerra certamente no alla guerra ma qual è l'alternativa qual è l'alternativa l'alternativa al no alla guerra è la non violenza è questo è creare una società che non è l'antimilitarismo è l'antiautoritarismo è il è la lotta dagli armamenti è questa è questa cosa qui è questa cosa qui ma ci rendiamo con la cosa più pazza che mi pare di capire su cui potremmo anche parlare agli operai della no alla guerra quando ci dicono il 2% delle spese militari è la scala mobile della morte ci rendiamo conto è la scala hanno tolto la scala mobile allora chiediamo una scala mobile anche per la sanità diciamo benissimo volete il 2% delle armi e noi vogliamo il 3% 4% della sanità il 6% per la pubblica istruzione e così via affrontiamo questa questione e vedrete che avremo il consenso di quelle masse di quelle di quelle masse ma se non attacchiamo la spesa militare non in termini estrati ma in termini concreti in termini concreti per esempio anche da un punto di vista interno insomma ai lavoratori ecco dobbiamo quindi riprendere una politica che abbia un orientamento etico e finché la sinistra non avrà un orientamento etico e cioè un orientamento universalista da questo punto di vista non solo della distribuzione equa del reddito o di questa cosa ma di giustizia universale di queste questioni qui e di non violenza di costruzione di una società che non sia basata sulla competizione sull'appropriazione privata eccetera eccetera ma che abbia questa dimensione noi non riusciremo a parlare ai giovani non riusciremo a parlare alle donne non riusciremo a parlare a quel 50% non ne ho sentito parlare che non va più a votare perché questo sistema democratico diciamo a cui noi partecipiamo diciamo nella misura in cui partecipiamo a questa pseudo democrazia che è quella che c'è noi ne diventiamo complici ne diventiamo complici se non la denunciamo per essere appunto ormai una parvenza una parvenza quella che appunto vota i crediti di guerra il voto i crediti di guerra come noi abbiamo fatto come la sinistra anche la sinistra radicale ha fatto in un passato non troppo non troppo lontano e su cui ancora non mi pare ci siano state ci siano stati ripensamenti grazie grazie allora prima di interrompere i lavori per la pausa volevo chiedere a Piero Soldini di intervenire in modo da poter come ultimo e poi ci rivediamo qua verso le due e mezza tre uno da precisa alle tre io ringrazio moltissimo trasforma per questa opportunità senza ripetere quello che condivido di questa discussione insomma molte cose sono state già dette vorrei fare alcune considerazioni magari appunto interloquendo con gli spunti un po' più critici diciamo che ho ascoltato fino adesso a partire appunto dalla mia esperienza cioè io sono un compagno che sto lavorando con un altro gruppo di compagni e compagne diciamo a un comitato di aderenti individuali al partito della sinistra europea è un intento diciamo come dire un po' provocatorio di cambiare anche diciamo i luoghi come dire la militanza diciamo le relazioni le regole anche con le quali ci incontriamo e esprimiamo diciamo una battaglia politica ma se poi questo intento non incontra diciamo una disponibilità a questo approccio e a questo cambiamento anche negli interlocutori tra virgolette più sensibili poi in realtà diventa un'altra cosa cioè diventa il legame minimo lo stato minimo di rapporto con la politica dopodiché ci sarà l'indifferenza probabilmente e in realtà siamo a questo livello cioè nel senso che al di là di quello che diciamo poi in realtà ognuno rimane appunto esattamente chiuso dentro il proprio bossolo e custode diciamo non tanto di idee ma di una prassi diciamo tradizionale di interpretare la politica che fa fatica a misurarsi diciamo con con l'esterno con quello che si muove all'esterno quindi la difficoltà proprio anche nel momento in cui ci dichiariamo di lavorare per la rete poi comunque una limite proprio a interpretare un metodo anche di rapporto che sarebbe più funzionale alla rete in realtà diciamo la come dire la vocazione alla coalizione alla cooperazione all'incontro non non c'è le coalizioni funzionano e sono coalizioni di potere o nel caso della sinistra in qualche raro caso in cui diventano coalizioni difensive cioè perché poi diciamo c'è una consapevolezza un po' più ampia di massa rispetto a quello che si sta perdendo a quello che si sta rischiando quindi magari in alcune fasi del movimento facifista in alcune fasi anche diciamo delle lotte eh tra virgolette operaie quando si 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 comprende diciamo che si sta su un livello di guardia nasce un'ipotesi di coalizione altrimenti nel lavoro quotidiano diciamo nell'attività di militanza quotidiana questa vocazione non c'è non si registra io non voglio dilungarmi e quindi passo diciamo un esempio concreto che è esattamente per esempio il modo col quale si sta formando questo percorso della lista pace terra dignità cioè se se io dovesse esprimere un giudizio da questo punto di vista direi che il giudizio è pessimo cioè non funziona un cazzo da questo punto di vista cioè nel in come sta è proceduto diciamo il lavoro di formazione cioè il mio comitato Europa Sinistra ha aderito a questo percorso abbiamo fatto un'adesione formale inviata al servizio pubblico a Santoro alla Valle e poi ad Acerbo e poi a Fratoianni e poi a Bayer ma nessuno ci ha risposto ci ha detto ci ha preso atto non sappiamo neanche se l'hanno ricevuta cioè un magari un semplice riscontro diciamo di averla ricevuta dal punto di vista poi diciamo anche della scelta delle candidature cioè a me non mi pare che diciamo che sia all'altezza anche a questo lavoro rispetto a a a quella che poteva essere la le potenzialità e le aspettative e non è un caso perché quando si arriva in questi a queste condizioni poi c'è un'accelerazione e ognuno utilizza i metodi sui quali diciamo si sente più più preparato insomma che che dopodiché detto questo secondo me rispetto a questa esperienza fa premio il fatto che l'intuizione politica è quella diciamo di una di una lista che pone il tema centrale senza il quale questo appuntamento elettorale delle elezioni europee visto diciamo dall'Italia sarebbe un test sulla sulla presidente del consiglio sul sulla Meloni sarebbe semplicemente un test e quindi questo alla fine bisogna passare sopra a tutto il resto a tutti i limiti ecco perché secondo me comunque non sono così eh tragicamente pessimista come come eh come Franco penso che questa cosa è utile farla ancora prima di sapere quanti voti prende perché comunque questo tema e questa campagna condizionerà anche le altre formazioni e con gli altri partiti diciamo della sinistra più moderata che si misurano con questa campagna elettorale perché ritengo che il tema della pace e della guerra oggi sia il tema più politico cioè nel senso più anticapitalista anche se volete perché il perché come diceva Franco e io aggiungerei anche di più cioè nel senso che non è semplicemente il fatto che il capitalismo in questa fase usa la guerra come magari è accaduto in altre circostanze il problema è che oggi secondo me dopo la dopo la sconfitta cioè dopo che è uscita dal campo l'ipotesi che il capitalismo si potesse sconfiggere attraverso la rivoluzione diciamo del proletariato e quindi il capitalismo ha dilagato diciamo nel pensiero unico oggi il pericolo al capitalismo è altrettanto forte forse ancora più forte per altri fenomeni che forse sono più entropici al capitalismo cioè sono le contraddizioni appunto dell'ambiente è la questione ecologica con quello che si porta dietro gli stessi elementi diciamo fenomeni pandemici che sono collegati anche diciamo alla alle condizioni di insalubri del del pianeta e quindi l'economia di guerra è l'unico strumento col quale il capitalismo realisticamente è in grado di tenere il fronte perché altrimenti non ci riuscirebbe e quindi a maggior ragione il fronte della sinistra oggi per me deve essere il fronte della pace ed è per questo che secondo me il nostro lavoro anche i limiti diciamo le nostre debolezze comunque non possono che stare su questo fronte grazie grazie Piero ci riposiamo un attimo e riprendiamo i lavori alle tre e quindi e anche per chi è in collegamento anche per loro rimbale adesso chiudo la la riunione la riapriremo più tardi grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti